Ecco, buongiorno a tutti e a tutte, sia chi è qui presente in sala, sia chi ci sta seguendo da casa. Mi presento, sono Walter Franco, sono un docente del Politecnico del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Aerospaziale. Oggi pensavo di condividere con voi una riflessione sul tema delle tecnologie, in particolare le cosiddette tecnologie appropriate, di cui darò poi una definizione nel termine del mio colloquio, in relazione a quello che è il processo di transizione socio-ecologica. Per cortesia, prossima diapositiva. Ecco, quando parliamo di transizione socio-ecologica parliamo di tematiche estremamente complesse, perché stiamo parlando di fenomeni che dovrebbero in qualche modo trasformare completamente le nostre attività in modo da renderle indefinitivamente compatibili con quelli che sono i vincoli di tipo ambientale. Se noi diamo un'occhiata a quelli che sono poi i modelli tecnologici che possono stare dietro a questo processo, abbiamo due macromodelli che possiamo chiamare, nel primo caso, quello dell'ecomodernismo. È un processo che in realtà parte dal presupposto che noi non siamo chiamati, se non marginalmente, a cambiare i nostri stili di vita. Possiamo stare tranquilli, possiamo continuare a vivere come viviamo attualmente, con i nostri ritmi di vita, con i nostri tenori di vita. Sarà la tecnologia che ci aiuterà a scaricare l'ambiente dalle ricadute negative che hanno i nostri comportamenti, grazie a un processo continuo di cosiddetta innovazione tecnologica. Quindi invenzioni e innovazioni continue che dovrebbero prendersi carico di questi problemi. fino ad arrivare a un livello di sgancio fra quello che è il processo di crescita economica e le ricadute negative sul livello ambientale, sull'ambiente. Dall'altra parte c'è un modello invece che è completamente ribaltato. Si parte dai soggetti, dai singoli, che fanno un'analisi anche puntuale, anche critica di quelli che sono i nostri stili di vita, delle nostre modalità di produrre e di relazionarci. Tipicamente arrivano alla conclusione che, sto parlando delle nostre società, quindi società ricche occidentali, volevo fare chiarezza su questo fatto, quindi si arriva normalmente alla conclusione che probabilmente abbiamo superato dei limiti e quindi ci dobbiamo ridare dei limiti e generalmente questo implica che poi le tecnologie vengano scelte alla luce di questo fatto. Grazie se si può andare avanti con la prossima diapositiva. Allora, il fatto che ci siano dei limiti lo sappiamo a dire la verità, lo sappiamo almeno dal 72 quando gli scienziati dell'MIT sollecitati dal Club di Roma hanno attraverso studi scientifici di una certa rilevanza fatto un modello di quelle che sono le interazioni fra i vari elementi che sostengono le nostre vite nel pianeta e arrivate alla conclusione che con l'attuale tasso di crescita, attuale di allora ma poi attuale di adesso, non saremmo riusciti a sostenere i nostri livelli di vita oltre esattamente questo secolo, oltre al 2100. Non è necessario in realtà ricorrere a modelli così complessi per capire che c'è qualcosa che non funziona, ad esempio in economia in cui il tasso di crescita è del 3%, supponiamo pure che ci sia un disaccoppiamento dovuto all'innovazione tecnologica, ma 3% di crescita annua significa, se non ci fosse disaccoppiamento, un raddoppio dei consumi in 24 anni e in 100 anni una moltiplicazione per 18 di consumi, quindi insomma è un problema evidentemente c'è ed è di tipo sistemico. Grazie. Ecco, nel 2019 è uscito questo studio che parla di disaccoppiamento, quindi il disaccoppiamento fra economia e ambiente, che è il modello che prevede che la tecnologia quindi permette di risolvere i guai che sono legati ai nostri stili di vita, e in questo studio si prendono in considerazione alcuni elementi che potrebbero porre dei limiti a questo modello, o quantomeno metterlo in discussione. Vedete, sono sette punti, non li toccherò tutti, anzi ne cito soltanto alcuni, ad esempio il primo parla dei costi energetici che vanno crescendo per il fatto che noi via via dobbiamo andare a cercare delle risorse che sono sempre più di difficile reperimento. Si prende in considerazione anche il tema della circolarità dell'economia che è molto preso in considerazione ultimamente in modo massiccio, è sicuramente un tema interessante, ma la circolarità è probabilmente impossibile da essere realizzata in toto. Gli studi, ad esempio del professor Gian Pietro, ci dicono che possiamo arrivare a percentuali di poche decine per cento di effettiva ricircolazione. Abbiamo sempre bisogno di immissione nel sistema di risorse nuove. Ma quello su cui volevo soffermarmi in particolare è il tema del cosiddetto effetto rimbalzo. Con effetto rimbalzo o paradosso di Gevons si intende un fenomeno di tipo sociotecnico che consiste più o meno in questo fatto. Quando una tecnologia arriva a un livello di efficacia elevatissima, per cui diventa effettivamente efficace anche per quanto riguarda questi fenomeni di disaccoppiamento relativamente alle ricadute di tipo ambientale, tipicamente le società hanno dei comportamenti che annullano questo effetto benefico. In quale modo? O perché la tecnologia è richiesta in modo massiccio e quindi i consumi tornano a ricrescere, o perché le risorse risparmiate da questa tecnologia vengono spese in altre attività energeticamente altrettanto dispendiosi. Il caso di una famiglia che, ad esempio, mette il capotto alla propria abitazione, quindi risparmia gas per scaldarsi in inverno, ma con il denaro che risparmia questa situazione fa un volo intercontinentale in più all'anno e quindi brucia cherosene al posto del gas. Quindi, se andiamo avanti per cortesia, scusate, è evidente che, come dire, lasciare in mano alla tecnologia questo processo probabilmente è rischioso e dobbiamo considerare la questione da un punto di vista più sistemico. In effetti, quando si parlava di transizione qualche anno fa, questo è un testo del 2009, tempi in cui raramente si parlava di questo problema della transizione, in genere gli studiosi prendevano in considerazione proprio il fatto che sarebbe stato necessario rivedere i nostri stili di vita, cioè intervenire a livello comunitario, cercare di organizzare le comunità in una modalità diversa, in particolare partendo dalla coscienza di questi limiti oggettivi che sono stati evidenziati dagli studi del Club di Roma e andando in una direzione di una società che, soddisfatti i bisogni essenziali, in un'ottica di sobrietà, andasse in una direzione di invece considerare altri aspetti, ad esempio quello della riduzione dello stress individuale, della felicità dei singoli, della resilienza, dell'inclusività e via dicendo. In un recente lavoro del 2021, perlomeno uscito in italiano del 2021, pluriverso ma già uscito qualche anno fa in lingua inglese, si raccolgono tutta una serie di esperienze, di comunità che vanno in questa direzione, quindi di comunità che scelgono liberamente, dopo una presa di coscienza della necessità di porre dei limiti ai nostri tenori di vita, di andare verso modelli di produzione e di consumo meno impattanti e di viceversa dare enfasi ad altri aspetti che normalmente noi non consideriamo nelle nostre economie. Parliamo ad esempio di termini come autonomia, semplicità, sufficienza, sobrietà, inclusività, giustizia, equità, cura, dignità del lavoro, tra l'altro che è uno dei temi che ovviamente sono centrali in queste iniziative di questi giorni. ecco, si parla quindi di una nuova, un nuovo modello di società di cui ci sono molte esperienze seppure di piccole dimensioni disseminate in tutto il mondo che è quello del cosiddetto buen convivir che possiamo mettere come dire non in contraposizione ma a confronto con il nostro modello dello sviluppo che spesso poi si trasforma in un modello della crescita. Andiamo avanti. Ecco, a questo punto fatta questa premessa quindi rivolgendo la nostra attenzione verso questi tipi di comunità che stanno facendo delle esperienze a mio avviso interessanti che andrebbero prese in considerazione come esperienze prototipo, come esperienze modello, come creatori di tecnologie come progettisti di tecnologie ci chiediamo quali potrebbero essere le tipologie di tecnologie che possono sostenere queste esperienze. Ecco, per arrivare a dare una risposta a questa domanda ricorriamo anche a qualche analisi di testi di sociologi e di filosofi della tecnica che in passato si sono occupati proprio delle relazioni che ci sono fra la tecnologia e le nostre comunità. Uno, forse non molto noto, è Jacques Ellul che ha scritto moltissimo negli anni 70, fra cui questo testo Il sistema tecnico, che ha evidenziato alcuni paradossi dei nostri modelli tecnici che noi in quanto immersi in questo ambiente facciamo fatica a percepire. Una delle questioni che lui pone è che la tecnologia o meglio la tecnica come dice lui cioè la summa dell'apparato tecnico ha perso il ruolo di essere uno strumento in particolare per produrre dei beni di nostra necessità ed è diventato una mediazione cioè è diventata la mediazione che noi usiamo per avere delle relazioni fra di noi e per avere delle relazioni fra noi e l'ambiente. Se ci pensate è quello che è successo e che sta succedendo con l'intermediazione attraverso i social delle relazioni fra le persone è sempre più difficile avere delle relazioni dirette in sala ci sono probabilmente meno persone di quanto in questo momento ci stanno seguendo da casa. Ecco che cosa implica questo fatto? Beh il fatto che questa mediazione sia così importante così significativa annulla ogni tipo di altra mediazione che noi culturalmente avevamo elaborato nella storia milionaria delle nostre civiltà quindi la mediazione di tipo culturale la narrazione la poesia i miti abbiamo perso l'esperienza abbiamo perso queste capacità di avere delle relazioni dirette fra di noi e l'ambiente questo è un processo automatico la tecnica ciò che può fare la fa uno degli esempi che fa è Lulli e dice se l'automobile può fare i 100 km allora li farà noi come collettività non possiamo ridurre le velocità delle automobili anche se sappiamo benissimo che questo determinerebbe una riduzione dei consumi significativo e sarebbe in termini di sicurezza una scelta molto interessante ecco a questo punto la tecnica diventa quindi mediazione e nelle comunità di cui parlavo prima in cui invece si vuole ricostruire una relazione profonda fra i soggetti e una relazione diretta con l'ambiente si tenta di recuperare questa possibilità diciamo umana e tipicamente si va quindi nella direzione di ridurre l'entità della tecnica presente ovvero le tecnologie a supporto di quei modelli produttivi sono tipicamente tecnologie di bassa intensità cioè i cosiddetti low tech se posso ecco perfetto grazie ecco il passaggio ulteriore che evidenzia l'Ul sul fatto che la tecnica è una mediazione e non è uno strumento non è uno strumento di produzione è una mediazione ed è anche un fine consiste nell'evidenziare come noi produciamo grazie all'efficienza della tecnica moltissimi oggetti ma gli oggetti che produciamo non sono poi la finalità del nostro gire produciamo oggetti che spesso non hanno valore produciamo oggetti a cui non diamo valore che non hanno significato per noi fino al limite assurdo di produrre oggetti che disprezziamo come quelli che tipicamente vengono gettati immediatamente dopo l'uso il recupero di una tecnica a servizio di comunità in transizione secondo il modello che ho presentato all'inizio prevede di mettere in discussione anche la produttività delle macchine andando nella direzione invece di avere strumenti di produzione che enfatizzino la qualità dei prodotti ovviamente compatibilmente col fatto che vengono soddisfatte le esigenze primarie delle comunità grazie se si può andare avanti perfetto ecco l'ultimo tema che volevo mettere sul piatto riguarda il tema dell'energia e della potenza noi siamo abituati a pensare che nelle nostre comunità sia positivo avere delle quantità di energia disponibili crescenti siamo convinti che questo processo porti a dei benefici ora se questo fatto è vero tipicamente quando si passa a condizioni di bassa disponibilità energetica fino a un certo livello le cose cambiano e questo l'ha evidenziato un altro filosofo negli anni settanta Ivan Illich le cose cambiano nel momento in cui si supera un certo livello di disponibilità energetica Illich ha evidenziato come le società in cui si supera questo livello tipicamente vanno verso una direzione che è di disequità e vanno verso una direzione che di fatto rende sempre più bassi i rendimenti complessivi si parla proprio di diminuzione dei rendimenti dei sistemi complessi lui ha fatto un'analisi molto puntuale sul tema del trasporto e ha evidenziato ad esempio come finché ci si muove usando basse intensità energetiche cioè usando la muscolatura quindi andando a piedi o in bicicletta le società sono organizzate in modo che le persone abbiano accesso ai servizi attraverso questo tipo di mobilità e quindi tipicamente tutti possono fare ciò di cui hanno bisogno in tempi relativamente brevi e tra l'altro con un'attività che non richiede un'astensione del momento di vita se uno va passeggiando a raggiungere il posto di lavoro o il servizio di cui ha bisogno incontra altre persone e questo è un momento di vita quindi lo spostamento non è una sospensione ecco quando si mette dall'energia in più nel sistema sociale quindi si trasforma una comunità che è fondata per la maggior parte degli spostamenti sui spostamenti muscolari e si introduce la motorizzazione succede che i servizi si dislocano intorno alla città pensiamo a quello che è successo negli anni in cui abbiamo portato ad esempio la piccola distribuzione fuori dalle città il paradosso è che è vero che in automobili si va molto più in fretta che a piedi per lo meno diciamo facendo l'analisi puntuale di quella che è la velocità del mezzo e non di tipo sistemico ma questo è un altro discorso che adesso non abbiamo il tempo di affrontare ma è anche vero che poi complessivamente ognuno di noi dedica molto più tempo a spostarsi molte ore contro pochi minuti di una società che è organizzata sullo spostamento a piedi questo è un altro aspetto che a mio avviso andrebbe preso in considerazione e tra l'altro questo crea una diseguaglianza ad esempio fra chi ha l'automobile e chi non ce l'ha mentre i piedi più o meno ce li abbiamo tutti quanti abbiamo la possibilità di spostarci in modo abbastanza democratico ecco se noi tra l'altro affrontiamo questo tema dal punto di vista delle macchine prossima diapositiva per cortesia grazie succede un fenomeno particolare abbiamo fatto questo studio un paio di anni fa che ha questo scopo cercare di capire che cosa succede in un qualsiasi tipo di processo produttivo qui ad esempio parliamo di mietitura e trebbiatura del grano nel momento in cui si passa da tecnologie che hanno bassa potenza disponibile a tecnologie che hanno alta potenza disponibile quindi abbiamo confrontato ciò che succedeva quando il grano veniva prima tagliato e trebbiato manualmente poi con l'introduzione della trazione animale quindi passando da pochi watt di potenza che ognuno di noi ha disponibile a alcune centinaia di watt di un cavallo oppure alcune migliaia di watt di alcune decine di cavalli abbiamo anche analizzato grazie a quello che succede quando questa stessa potenza però la si utilizza attraverso delle tecnologie di tipo intermedio quindi non con un uso diretto manuale di attrezzi semplici ma con attrezzi cosiddetti intermedi come aveva definito una delle definizioni diciamo delle tecnologie appropriate poi abbiamo fatto un'analisi di quello che succede quando si arriva a una meccanizzazione molto spinta fino alle ultime metri trebbi di alcune centinaia di chilo ecco se andiamo a vedere i grafici che escono fuori da questo tipo di analisi noi abbiamo un primo effetto che è abbastanza intuitivo cioè all'aumentare come si vede qui sull'asse delle X la potenza individuale disponibile dell'operatore che quindi trebbia e taglia un campo ebbene aumentare della potenza aumenta ovviamente la produttività andando avanti si vede una freccia ecco però quello che si nota ancora una per cortesia è che la produttività aumenta di moltissimo per piccoli input di potenza quando siamo a basse potenza se poi andiamo avanti ad alte potenze del sistema occorre avere delle grandi emissioni di potenza per avere gli stessi benefici in termini di produttività quindi la produttività è intesa come ettri di terreno processati da una singola persona per ora le cose si ribaltano però quando andiamo a vedere che cosa succede in termini di efficienza ecco in questo caso se noi riportiamo sempre sull'asse delle X la potenza che ognuno ha disposizione nell'andare a mettere e trebbiare il grano e sull'asse delle Y quante energia ci vuole per trebbiare e mettere un ettaro di no per cortesia uno indietro un ettaro di terreno si vede che a basse potenze abbiamo delle produttività specifiche molto alte mentre alle alte potenze questo fenomeno non riusciamo a raggiungere stiamo parlando di rapporti attenzione significativi cioè se uno si accontenta questa è la morale di questo ragionamento di piccole produttività piccole ma compatibili con un'organizzazione comunitaria di un certo tipo riesce a ottenere la stessa quantità di prodotto a basse quantità di energia da 5 a 10 volte in meno di quanto non lo si faccia con grandi potenze se pensate a quello che succede nel confronto fra bicicletta e l'automobile un'automobile consuma centinaia di volte in più di quanto uno consuma una bicicletta certo che va molto più in fretta però i termini in costi energetici sono significativi vado verso la conclusione anzi concludo perché si è fatto tardi tutto ciò che ho cercato di condividere sta diciamo a monte di un processo di tipo tecnologico che le comunità possono cercare di adottare che va sotto il nome di scelta della tecnologia scelta della tecnologia di tipo consapevole nel momento in cui una società si organizza per cercare di produrre ciò di cui ha veramente bisogno in un'ottica di diciamo di conoscenze dei limiti e di sobrietà allora può liberamente scegliere queste tipologie di tecnologie che sono semplici a bassa intensità di potenza ma che poi restituiscono alle comunità anche ad esempio una piacevolezza nell'attività lavorativa pensate a quello che significa fare un lavoro artigianale di un certo tipo il lavoro dell'artista Ivan Illici diceva è il lavoro che si fa fischiettando a differenza invece di un lavoro di manovalanza dura e obbligata che si fa dicendo le parolacce andando avanti quindi concludo ci sono nella declinazione di queste tecnologie aspetti che non sono soltanto la produttività brutale come spesso prendiamo in considerazione noi ma aspetti di tipo psicologico sociale culturale andando avanti abbiamo ovviamente le ricadute ambientali che sono quelle che poi dal punto di vista della transizione sono sicuramente benefiche andando ancora avanti sono ovviamente gli aspetti economici e infine gli aspetti legati alla costruzione all'uso e alla manutenzione di queste tecnologie concludo facendo vedere il piccolo prototipo che abbiamo realizzato presso il Politecnico nell'ottica di mettere a disposizione di produzione di tipo contadino familiare di grano una trebbiatrice pulitrice ad azionamento manuale assistito proprio per piccole produzioni di grano con questo tipo di impostazione con questa filosofia e infine l'invito che faccio è quello di provare a esplorare come dire modelli di tecnologia che si diversificano così come la vita nell'evoluzione si è diversificata a seconda dei contesti e abbandonare forse almeno parzialmente l'unica via che ci sembra possibile di sviluppo tecnologico che è uno sviluppo tecnologico lineare deterministico che spesso stiamo inseguendo nell'ottica di disaccoppiare le nostre economie dalle ricadute ambientali negative vi ringrazio moltissimo per l'attenzione scusate forse sono andato un po' lungo abbiate pazienza grazie ancora grazie grazie davvero e bisogna riconoscere che da questo punto di vista le tue due ultime parole deterministico e non lineare colgono in un modo molto interessante quello che era già all'interno delle equazioni differenziali del modello sui limiti dello sviluppo aggiungendo anche il fatto che forse non sono solo curve morbide ma se non si sta attente si ha anche transizioni brusche e questo sta succedendo e dobbiamo sicuramente pensarci grazie ancora e la parola a Cristiana Peano dell'Università di Torino a te come avete visto poi arriva implacabile il foglietto che dice un minuto ma voi ci scuserete di questa brutalità buongiorno a tutte e tutti amici vicini e lontani credo che sia necessario dire io appunto mi chiamo Cristiana Peano e sono docente per il disaffa dell'Università di Torino che è il Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari in questo nostro incontro io vorrei fare un po' un escursus insieme a voi sul tema dell'agroecologia che rappresenta a mio avviso una vera e propria sfida per il futuro dell'agricoltura in particolare però in questo contesto non voglio parlarvi di tecniche agricole ma parlarvi di un percorso possibile che dovrebbe essere fatto dalle intere comunità per andare incontro a modelli diversi di agricoltura intesa come uno degli elementi del sistema del cibo perché effettivamente noi fino adesso siamo stati un po' abituati a immaginarci l'agricoltura esclusivamente come un settore produttivo come se fosse totalmente sganciato da quello che viene dopo e cioè quello che viene dopo è sostanzialmente il fatto che l'agricoltura produce le materie prime e gli alimenti per la nostra alimentazione e che quindi è inevitabile fare un ragionamento a livello di sistema e come spesso succede come anche in parte citato comunque sotteso Walter Franco i sistemi sono fatti dalle persone ed è per questo che vorrei iniziare questa mia chiacchierata proprio da questo insieme di persone e da quella che è stata un po' la caratterizzazione dell'idea dell'agroecologia cioè che l'agroecologia è una disciplina scientifica sono delle buone pratiche agricole ma soprattutto l'agroecologia è un movimento e il movimento la parola movimento noi quasi sempre ricorda esclusivamente magari anche delle lotte politiche o comunque delle un movimento per combattere o per muoversi in una certa direzione qua l'idea interessante del movimento secondo me che possiamo dare è il fatto che c'è stato un movimento di persone molto differenti tra di loro che hanno giocato ognuno un ruolo differente per muoversi verso la costruzione di un'idea di un'agricoltura nuova e in questa slide voi vedete sostanzialmente sia degli scienziati c'è la foto di Odum c'è Pierre Rabie che è un contadino filosofo morto da poco che ha sviluppato l'idea dell'agroecologia soprattutto nel continente africano c'è Miguel Altieri che è uno un po' è considerato il guru o comunque il maestro dell'agroecologia in ambiente dell'America Latina ma ci sono anche Gliezmann Vez sono tutti scienziati o filosofi o sociologi che si sono occupati di agroecologia non esclusivamente da un punto di vista accademico per portare avanti semplicemente una ricerca o portarla avanti come una disciplina scientifica ma si sono occupati di dare voce a quello che sono le popolazioni indigeno o comunque le popolazioni locali che volevano sostanzialmente sottolineare un diritto alla sovranità alimentare e quindi avere il diritto di decidere che cosa coltivare che cosa allevare e che cosa mangiare quindi il mantenimento delle proprie tradizioni con un aiuto appunto di tutte queste altre persone soprattutto della disciplina scientifica perché questo discorso non significa arretrarsi come sul tema delle tecnologie non significa che se io non ho l'ultima tecnologia possibile sono arretrata mi fermo c'è un po' quest'idea che chi parla di agroecologia voglia che il mondo si fermi no la questione è proprio di innescare dei meccanismi di innovazione ma che siano adeguati al contesto in cui noi ci troviamo la particolarità in questa slide è che vedete anche un ritratto di Thomas Sankara quindi anche di un politico era stato presidente del Burkina Faso quindi in un contesto africano in un momento che è quello del postcolonialismo molto difficile che è stato uno dei grandi promotori dell'agroecologia nel senso che aveva immaginato per il suo paese anche se poi appunto è stato ucciso e quindi non ha potuto portare a termine questa rivoluzione ma aveva immaginato per il suo paese questa transizione verso un'agricoltura che non fosse dipendente dalle multinazionali e dalla produzione in quel caso del cotone ma che ritornasse a produrre quelle che erano le batterie prime appunto per dare seguito a una politica alimentare e credo che tutte queste persone come migliaia di altre persone anche meno note in giro per il mondo oggi stiano ragionando sul tema dell'agroecologia forse sono persone che hanno meno voce meno visibilità rispetto a chi parla di agricoltura da un punto di vista più tecnologico ma io penso che sia sostanzialmente una rivoluzione che è in atto soprattutto se teniamo in considerazione che la stragrande maggioranza dell'agricoltura a livello mondiale è fatta di agricoltura familiare e che significa di piccoli agricoltori che hanno a disposizione una quantità di terra molto limitata e che pur vendendo parte dei loro raccolti la maggior parte del loro raccolto viene utilizzato per l'autoconsumo di famiglie allargate e quindi questo è un tema importante noi abbiamo sempre in mente che l'agricoltura sia fatta solo da queste grandi società ma in effetti la produzione di cibo nel mondo è in mano all'agricoltura familiare qual è l'evoluzione interessante dell'agroecologia l'aspetto più interessante è che se partiamo da Odum un grande ecologista e dei primi agronomi che si sono avvicinati ai concetti dell'ecologia si faceva un ragionamento che era molto limitato alla gestione della singola parcella l'aspetto più interessante secondo me è l'evoluzione dell'agroecologia che c'è stata nel alla fine del novecento e soprattutto in questi primi vent'anni dei duemila in cui al tema esclusivamente ecologico o esclusivamente delle tecniche agronomiche si è aggiunta anche una posizione dell'agroecologia in termini di sostenibilità sociale e di sostenibilità ecologica ma soprattutto credo che l'aspetto più interessante che noi dovremmo riuscire a percorrere perché forse è l'unica strada che ci può portare una reale transizione è quella di non considerare solo ed esclusivamente il singolo campo o la singola azienda agricola ma fare un ragionamento che si allarga a livello di territorio ed è qua che c'è questa netta possiamo dire questo netto legame che si può creare tra un nuovo modello di agricoltura un nuovo modello di consumo quindi legato a quelli che sono i consumatori ma anche a un nuovo modello di governance nel senso che in questo tipo di processo potrebbero essere e dovrebbero essere assolutamente coinvolti anche tutti quei soggetti che si ritrovano a dover governare dei territori a dover prendere delle decisioni anche da un punto di vista ambientale sui territori stessi se quello che sostanzialmente oggi si discute non vorrei chiamarla contrapposizione tra agricoltura industriale ed agroecologia perché poi alla fine forse ognuno dei due su qualche punto può avere ragione ma secondo me quello che noi dobbiamo capire è che ci sono due percorsi che si stanno definendo e cioè due percorsi che prendono in considerazione quella che è la modernizzazione ecologica da una parte abbiamo il tema dell'intensificazione sostenibile e quindi una modernizzazione ecologica debole molto vicina a quella che è già stato spiegato da Walter Franco in cui c'è una prevalenza totale della tecnologia e quindi ci immaginiamo che questa transizione da un punto di vista ecologico possa essere dettata semplicemente dall'aggiunta dei droni in agricoltura dalla sostituzione di una molecola chimica con un'altra molecola chimica dalla sostituzione di un genotipo e quindi di una varietà con una varietà più performante e quindi sostanzialmente quello che noi ci immaginiamo è questo percorso in cui noi introduciamo tecnologie otteniamo dei risultati sicuramente anche da un punto di vista della sostenibilità ambientale ma rendiamoci conto che chiaramente poi a un certo punto queste tecnologie dovranno essere sostituite con altre tecnologie e così via senza mai dare un senso di sostenibilità nel tempo senza andare realmente a modificare quelli che sono gli agroecosistemi in una direzione più sostenibile a 360 gradi l'approccio a una modernizzazione ecologica molto più forte dove chiaramente si inserisce l'agroecologia e sostanzialmente l'idea di ridisegnare i nostri modelli agricoli quindi cambiare completamente paradigma renderci conto che comunque le attività agricole sono impattanti rispetto a quello che è la dinamica naturale dei sistemi quindi sostanzialmente siamo noi che andiamo ad aggiungere degli elementi a un sistema che senza di noi sarebbe in equilibrio e quindi il ragionamento di questa riprogettazione dei territori è legato al fatto di riuscire a creare degli agroecosistemi che sul lungo sul medio e lungo periodo vadano appunto in equilibrio con la parte naturale e quindi mantengono anche una sostenibilità sostanzialmente nel tempo e qua si ritorna a dei concetti che noi ci siamo un po' dimenticati ma sono sempre stati molto presenti che è il tema della biodiversità quindi il tema di avere dei sistemi che non siano monoculturali ma che siano differenziati si ritorna al tema del fatto che sostanzialmente tutti i campi sono collegati tra di loro e quello quindi è il tema dei corridoi agroecologici che avrete di cui avrete sicuramente sentito parlare del sostanzialmente dei servizi ecosistemici e anche non ultimo il tema sostanzialmente anche della della genetica intesa non come una modificazione genetica continua che è legata magari a meccanismi di ingegneria genetica ma il guardarci attorno e capire che noi abbiamo un patrimonio di varietà e quindi un patrimonio di geni anche a livello locale che possono essere reintrodotti in cultura perché con delle caratteristiche di resilienza molto diverse rispetto alle nuove varietà e quindi questi sono sostanzialmente un po' i due elementi c'è da una parte una fiducia sconsiderata possiamo dire nella tecnologia dall'altra invece il ragionamento su quello che noi abbiamo su quello che possiamo comunque innovare e su come mettere a sistema queste dinamiche sostanzialmente in questa rappresentazione è quello che si cerca di mettere di far comprendere che se noi consideriamo sui due assi la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale noi abbiamo una agricoltura convenzionale che chiaramente non ha nessuna forza da un punto di vista di questi due elementi di sostenibilità e sostenibile se vogliamo da un punto di vista economico nel senso che può essere momentaneamente anche più vantaggioso da un punto di vista economico ma poi come vediamo altri modelli di agricoltura che sono stati proposti nel tempo cercano comunque di rincorrere queste due dinamiche di sostenibilità ambientale e sociale dove sostanzialmente il massimo del raggiungimento della sostenibilità ambientale e sociale ci si avvicina quando si arriva a una forte differenziazione dei sistemi e quindi appunto al raggiungimento di questo equilibrio diverso e vorrei sottolineare uno degli aspetti che è in questa slide che è quello della certificazione perché forse noi come consumatori siamo un po' portati la maggior parte dei consumatori sono portati a pensare che ciò che è certificato ufficialmente sicuramente è più sostenibile da un punto di vista sia ambientale che sociale considerate che però nei sistemi differenziati ma nei sistemi che non si occupano solo di agricoltura ma del sistema alimentare c'è anche un rapporto diverso tra l'agricoltore e il consumatore e quindi a quel punto non è necessario che arrivi un ente terzo che porti una certificazione ma si instaura questo rapporto di fiducia e di contatto questa socialità già ricordata da Walter in cui sostanzialmente c'è uno scambio naturale quindi c'è possiamo dire un percorso di certificazione partecipata che induce soprattutto a scambiarsi informazioni che forse questo è un altro degli elementi che è sicuramente molto interessante perché è chiaro che noi dobbiamo assolutamente evitare questo scollamento soprattutto tra le aree urbane e le aree rurali ma soprattutto il fatto che appunto si consideri l'agricoltura come un qualcosa che è totalmente avulso dalla nostra vita quotidiana mentre mangiando tutti i giorni a colazione a pranzo e cena tutti noi siamo assolutamente coinvolti nel processo agricolo e quindi tutti noi dovremmo essere interessati a questo cambio di paradigma in relazione all'agricoltura alcuni elementi la dimensione ambientale dell'agroecologia come ricordavo prima c'è il tema delle sementi c'è il tema della differenziazione c'è un tema importante che è quella della conservazione non solo della biodiversità ma anche della fertilità dei suoli e soprattutto c'è un elemento che è fondamentale che in questa circolarità che va a creare all'interno del sistema agroecologico c'è un'attenzione particolare alla fertilità dei suoli dove ogni volta che noi parliamo di fertilità dei suoli ci immaginiamo semplicemente che dobbiamo dare dei concimi o eventualmente nel caso migliore possiamo utilizzare delle tame ma in effetti anche il tema della fertilità del suolo non è legato solo a questi elementi tutti chimici peraltro ma anche a degli elementi di vita nel suolo e quindi bisogna ragionare anche su quelli che sono i termini della fertilità biologica del suolo perché gli elementi che sono all'interno del suolo sono quelli che ci permettono appunto di rendere vivo il suolo e di creare mettere in piedi quel ciclo che non solo fertilizza le nostre coltivazioni ma non dimentichiamoci che un suolo vivo da un punto di vista biologico è anche un elemento fondamentale per quello che è la cattura del carbonio e quindi anche nel ciclo delle emissioni e dell'assorbimento della CO2 i suoli e le coltivazioni differenziate possono apportare un contributo decisamente molto importante e quindi siamo oltre al benessere nostro o di quello che mangiamo ma siamo anche nella dinamica di andare e intervenire in qualche misura su quello che è sistemi più resilienti e sistemi che in qualche misura cercano di contrastare il tema del cambiamento climatico abbiamo poi come vi dicevo questo aspetto sociale e culturale dell'agroecologia non dobbiamo dimenticarci quello che siamo stati quello che sappiamo quello che sappiamo fare ma soprattutto c'è un tema che è importante da un punto di vista culturale certo per le popolazioni indigene che comunque vedono riconosciute anche il loro percorso ma credo che uno degli aspetti fondamentali è questo tema del passaggio di informazioni tra una generazione e l'altra è un tema che è ovviamente molto citato ogni volta che si parla di sviluppo sostenibile non sempre messo in atto sulle dinamiche di sviluppo sostenibile l'agroecologia l'impatto sociale e culturale dell'agroecologia mette al centro questo passaggio di informazioni tra generazioni e quindi diciamo sostanzialmente permette anche lo sviluppo di nuove idee perché nel momento in cui noi ragioniamo con dei giovani succede anche noi all'università se non ci barichiamo sulle nostre sulle nostre idee vediamo che i giovani portano nuova linfa e nuove idee per fare un passo avanti e quindi è qua l'elemento di innovazione che comunque viene portato all'interno del sistema agroecologico da un punto di vista economico che spesso è contestato quando si parla di agroecologia perché si dice non si ottengono gli stessi rendimenti non si riesce ad arrivare ai medesimi mercati è chiaro che dobbiamo immaginarci a un cambio di paradigma e quindi come si diceva prima non è che noi possiamo cambiare tutto ma noi continuiamo a fare sempre la nostra vita il fatto è che chiaramente anche nella dimensione economica c'è una forte incidenza di un ruolo attivo da parte dei consumatori un ruolo attivo da parte dei consumatori che devono innanzitutto anche comprendere quello di cui si alimentano e quindi anche la differenza di qualità da un cibo rispetto ad un altro e possono essere dei soggetti attivi con i gruppi d'acquisto i farmer market ma tutta una serie di altre dinamiche in cui sicuramente si inserisce il tema delle produzioni locali e del consumo delle produzioni locali in ultimo la dimensione politica dell'agroecologia mi piace ricordarla c'è un movimento che è la via campesina che è un movimento a livello mondiale nato in America Latina ma oggi diffuso in tutto il mondo che nelle ultime COP è stato invitato come uno degli elementi per discutere sul tema del cambiamento climatico e quindi la dimensione politica è proprio una dimensione di aggregazione dei popoli attorno a un'idea specifica che permette poco a poco di sedersi anche su dei tavoli che possono essere dei tavoli interessanti non sempre ascoltati come spesso succede però che comunque hanno iniziato ad insinuare dei dubbi anche ad esempio nella politica agricola comunitaria dell'Unione Europea che ha iniziato comunque a inserire alcuni elementi di greening l'ultima slide e poi concludo questa era una slide solo per mettere insieme tutti questi elementi di cui vi ho parlato quello che credo sia di fondamentale importanza nell'agroecologia è il discorso di parlare di agroecosistema quindi non dimenticarsi che l'agricoltura fa parte di un sistema naturale in cui deve integrarsi e che non può essere invasivo in questo sistema ma soprattutto uno degli aspetti che io vorrei sottolineare nell'ambito dell'agroecologia è che noi dobbiamo riprogettare dei sistemi dobbiamo riprogettare dei territori non possiamo limitarci a un'agricoltura di sostituzione come spesso è stato fatto anche ad esempio nell'ambito del biologico che pensiamo di risolvere tutti i nostri problemi sostituendo semplicemente una molecola con un'altra un genotipo con un'altra senza pensare ad un discorso di insieme e di sistema perché l'agricoltura è sistema e non è solo sistema in quanto tale sui territori ma anche parte fondamentale di quello che è il sistema del cibo vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie ora passiamo in questo caso usando tecnologie che sono diciamo energy consuming perché si passa allo streaming video a proiettare una registrazione che è stata fatta del professor Andrea Segrede dell'Università di Bologna che non potendo essere partecipare in questo momento ha registrato un intervento che ha come titolo zero spreco per lo sviluppo sostenibile quindi noi e quelli in streaming lo vedremo insieme un saluto a tutti grazie per l'invito spiace non essere in presenza ma anche in questa forma virtuale ci tenevo davvero a esserci a portare un piccolo contributo una pillola come si dice sui temi che legano il lavoro alla sostenibilità a partire poi dalla nostra esperienza a quella dell'università della loro facoltà di agraria quando oltre 20 anni fa ci ponevamo un problema come recuperare a fini solidali i prodotti invenduti dalla grande distribuzione abbiamo questo progetto progetto di ricerca prima last minute marketing il mercato dell'ultimo minuto che a partire dal lavoro degli studenti dei ricercatori voleva trovare un modello un modello allora non si usava tanto questa parola sostenibile cioè che evitasse poi sostanzialmente la produzione di rifiuti e solidale nello stesso tempo cioè che ciò che ancora non era rifiuto ma prodotto buono questo lo spreco poteva essere recuperato a fini caritativi quindi troviamo un modo allora senza rendersene del tutto conto che a partire diciamo da un difetto dell'economia da non so come definire lo spreco alimentare qualcosa che non è voluto potesse effettivamente portare alla soluzione di un doppio problema da una parte paghiamo una tassa su rifiuti per sbaltirla per sbaltirli peraltro inquinando e dall'altra diciamo abbiamo bisogno di alimenti buoni quindi dobbiamo dimostrare la loro salubrità che possono essere poi donati agli indigenti peraltro lo dico così a margine eravamo alla fine degli anni 90 precisamente 1999 all'inizio anzi alla vigilia del terzo millennio e la situazione diciamo di povertà economica alimentare non era così accentuata come quella odierna peraltro acquita dalla situazione pandemica e adesso anche dalla guerra coniugare dunque sostenibilità e solidarietà la cosa però interessante oltre a questa che è stata descritta diciamo anche in tanti libri articoli servizi la signora il marketing nel frattempo è diventato un'impresa sociale spin off sempre accreditato all'università di Bologna quindi un modo per coniugare ricerca ricerca diciamo teorica con applicazione sul campo ed è per questo forse che per questo che funziona diciamo ancora bene proprio perché hai questa trasmissione fra chi fa ricerca cerca di innovare e chi poi dal campo in qualche modo non solo mette in pratica ed è diciamo il gruppo di lavoro di la Snoop Market ma anche richiama delle esigenze ma se io dovessi recuperare invece che degli alimenti dei farmaci come si potrebbe fare quali sono le problematiche fiscali solo per fare un esempio e così via ecco però cosa c'entra col lavoro non credevo ma diciamo seppure in come posso dire proporzione quasi omeopatica questo piccolo spin off ha creato del lavoro nel senso che intanto vi lavorano i soci quelli che hanno costituito lo spin off assieme a me a suo tempo io ancora sono socio dello spin off anche se non ho nessun ruolo del resto la mia età diciamo mi fa in qualche modo definire mi chiamano i ragazzi che poi nel frattempo sono cresciuti il fondatore ma anche assunto nel corso del tempo diverse persone piccoli numeri sia all'interno della compagine societaria che ripeto è una è una diciamo un'impresa sociale oggi ma anche nei vari progetti che sono stati attivati solo per farvi un esempio che ricordo molto bene diversi anni fa ha iniziato il recupero dagli dei prodotti diciamo o meglio dalla mensa degli ospedali di Bologna che sono due pochissimi diciamo pasti non consumati però un numero sufficiente da renderli recuperabili con un risparmio per il beneficiario sufficiente ad assumere due figure professionali che gestivano questo e che gestiscono ancora questo progetto parliamo di piccoli numeri ma diciamo di esempi che possono essere tranquillamente e opportunamente replicati cioè il fatto di entrare in una dimensione diciamo che oggi diremo legata all'agenda ONU per lo sviluppo sostenibile peraltro ricordo che al 12.3 fra questi obiettivi c'è la riduzione a livello globale del 50% dello spreco alimentare dicevo entrare con un'impresa che occupa piccoli numeri ripeto e continuo a dirlo perché non vorrei che poi questo esempio diciamo fosse preso in un modo più ampio di quello che non che non è diciamo il caso di fare che però entra in questa diciamo dinamica di sostenibilità nei suoi driver classici cioè quella economica quella sociale quella ambientale riduco i rifiuti diminuisco l'inquinamento sociale recupero a fini caritativi gli alimenti economica risparmio sulla tassa dei rifiuti adesso ve l'ho fatta proprio in sintesi con una sorta di tweet ma sono tutti studi che noi abbiamo fatto a livello accademico e poi abbiamo cercato di replicare con proprio l'obiettivo di trovare anche delle metriche di sostenibilità in modo che questo tipo di lavoro abbia un senso oltre a occupare delle persone oltre a portare un contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile e proprio per questo il nostro gruppo di lavoro perché lavoriamo ognuno con ruoli diversi io continuo a fare il docente ricercatore universitario abbiamo sviluppato uno strumento questo osservatorio che si chiama Waste Watcher International esisteva già da 2013 a livello nazionale adesso l'abbiamo esteso a livello internazionale che ci aiuta proprio a entrare diciamo nel comportamento di tutti noi per contrastare lo spreco alimentare quindi capire perché gettiamo via degli alimenti che non è poi così chiaro soprattutto quando non si possono recuperare ciò che finisce nel bidone della spazzatura ci costa inquina ed è una perdita per noi perché abbiamo buttato via degli alimenti buoni e con questo osservatorio abbiamo occupato diciamo delle altre persone abbiamo attivato altri progetti che ci danno un contributo concreto per sostanzialmente non solo capire i nostri comportamenti ma trovare anche una metrica perché se vuoi veramente diminuire lo spreco alimentare al 2030 che dopo domani è del 50% per fare un esempio concreto dovrai oltre ai bei programmi che si fanno e che leggo un po' dappertutto trovare anche un misuratore e per dirvi siamo riusciti a trovare una misura piuttosto precisa e scientificamente molto solita dello spreco pro capite domestico in Italia è circa 600 grammi sembra poco ma se poi lo traducete in euro e in alimenti capite che invece diciamo anche noi che siamo in fondo fra i migliori livello globale cioè sprechiamo di meno abbiamo una lunga strada da fare ci possiamo porre degli obiettivi vogliamo dimezzarlo da qui al 2030 come facciamo ad arrivare ai 300 grammi pro capite che comunque rimane ancora diciamo una cifra piuttosto elevata tanto che noi nel nostro piccolo abbiamo chiamato la campagna spreco zero perché sappiamo che si potrebbe ridurre a zero ecco che poi una serie di azioni concrete di educazione alimentare per esempio che ti fanno raggiungere quell'obiettivo promuovendo nel contempo anche l'adozione di una dieta sana e sostenibile ecco mi chiudo su questo ci siamo inventati un lavoro io ho chiamato i ragazzi così un po' i foodbusters i cacciatori di cibo perché mi ricordavo ve lo ricordate anche voi il mitico film Ghostbusters però diciamo con uno scopo ben preciso quello di entrare davvero nei driver applicati della sostenibilità che sembrano parole buttate lì ma che in realtà sono molto concrete se le sai come posso dire adottare applicare piccoli numeri di laboratori che si sono formati così e che fanno questo mestiere sostanzialmente sì piccoli ma l'importante diciamo iniziare catalizzare diremmo così questo grande movimento in modo che anche il lavoro si evolva in novi così la formazione le figure professionali e vada e ci porti ci proietti verso un futuro davvero sostenibile grazie per avermi ascoltato vi saluto e buon lavoro a tutti il comunicatore ambientale che condurrà gli interventi successivi mi sembra di sapere che dunque Alberto Rez è qui in presenza e se vuoi magari già venire così e c'è anche il lavoro che è tenato vero? perfetto ma perché sono anch'io però ecco no no chiede i due e allora lui penserà di un gioco no ebbè ma non è il primo quale in cui il gruppo è composto a più di un ricercatore benissimo allora io so che altri interventi come li vedete qui saranno online e lascio quindi a terzo a potervi organizzare qui orienta tre sì buonasera a tutti benvenuti a questa tavola rotonda il titolo partiamo da qui verso un'agricoltura sostenibile giusta con noi a discutere di questo di questo argomento abbiamo appunto qui in presenza Alberto Revell segretario della CGL di Torino Michele Filippo Fontefrancesco docente ricercatore dell'università di scienze gastronomiche di Pollenzo e Giacomo Pettenati ricercatore dell'università di Torino poi abbiamo anche due collegamenti da remoto Carlo Basilio Bonizzi segretario generale della Casa dell'Agricoltura e Paola Sacco presidente di Confagricoltura Donne Piemonte bene allora il tema e già molte suggestioni sono state date negli interventi negli speech precedenti io cercherei di introdurlo in questo modo introducendo un po' un concetto che io utilizzo mi occupo di sostenibilità di comunicazione della sostenibilità da tanti anni e negli ultimi mesi il concetto di tempesta perfetta mi pare particolarmente appropriato anche per il tema di oggi ancora un mese fa prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina c'era una sorta di convergenza di impatti e problematiche che appunto vanno un po' a formare quella che può essere definita una tempesta perfetta e mi riferisco alla transizione ecologica e ai suoi costi agli effetti a livello di costi energetici di materie prime alla coda lunga della pandemia che non va dimenticata e soprattutto quella che è un po' tra queste dinamiche convergenti e quella forse più impattante ma di cui ci rendiamo un po' meno conto è quella della crisi climatica anche se questa crisi che ci appare sempre molto distante da noi ultimamente vediamo e l'agricoltura che il tema di oggi ne è un esempio plastico vedere gli effetti come si stanno scaricando oltre 100 giorni di siccità con tutte le conseguenze del caso a questa tempesta si aggiunge si aggiungono gli impatti del conflitto e quindi di nuovo un impatto sulle materie prime sulle importazioni le esportazioni i dazzi le reti di distribuzione e non da ultimo sui consumi quindi un impatto diciamo è un contesto molto negativo in questo contesto negativo allora io chiedo agli amici che sono qui oggi di fare uno sforzo e di provare invece a individuare in positivo le soluzioni che possono in qualche modo rappresentare una risposta positiva laddove è possibile a questo tipo di contesto e per questo diciamo cercando anche di non dimenticarci che la transizione ecologica e i temi che abbiamo sentito poco fa sono anche una grande opportunità anche per il mondo agricolo quindi a questo punto inizierei se c'è il collegamento pronto a chiedere a Carlo Basilio Bonizzi di provare a raccontarci in pochi minuti come la parola cultura e le parole cultura e innovazione vengano declinate sul lavoro agricolo partendo dall'esperienza della casa dell'agricoltura che è forse un'esperienza straordinaria da questo punto di vista perché è un'idea innanzitutto culturale di mettere al centro la cultura agricola a Milano e quindi al centro della pianura di una delle pianure più fertili d'Europa ecco lascerei la parola a Carlo grazie mi auguro che mi sentiate per cui se non ricevo controindicazioni procedo molto bene grazie intanto un cordiale saluto e un secondo ringraziamento di partecipare a un'iniziativa così significativa siccome nelle precedenti contatti abbiamo detto che abbiamo un numero di minuti decisamente contenuto io senza molti preamboli svolgere la mia considerazione che in qualche modo risponde dal punto di vista del lavoro in agricoltura e quindi si tratta di verificare se acquisisce tutte le sollecitazioni che sono state dette prima e le sollecitazioni a un'innovazione che porti anche al settore agricolo come tanti altri peraltro a doverosi passaggi di sostenibilità lo declinerei sulla verifica se posso usare questo verbo questo sostantivo del mutamento del lavoro in agricoltura del mutamento della professione in agricoltura parto con un esempio plasticamente penso evidente e cioè benessere animale quando mi sono laureato io nel 1976 di benessere animale non c'era la nozione oggi abbiamo delle norme peraltro molto rigorose sul benessere animale e quindi l'allevamento cambia nel modo di trattare gli animali e di corrispondere alle loro esigenze anche al punto di vista del benessere poiché per l'appunto anche lo stesso benessere è fonte di reddito c'è quindi mutamento in corso decisamente significativo ho già fatto un esempio in precedenti considerazioni incontri e mi sembra altrettanto pertinente trattore una volta c'era la figura del trattorista il trattorista era un signore che stava su una macchina che andava per campi e veniva usata in diverse maniere come presa di potenza come attività di trasporto quella figura oggi pian pianino si trasforma in un signore che con il camice bianco a bordo della campagna gestisce fino anche a sei macchine operatrici questa cosa di cui abbiamo penso nozione storica tutti quanti noi ci dà appunto molto chiaramente il senso di un mutamento che è di lavori di professioni di attività di strumentazioni e di concezione del lavoro della professione appunto della professione agricola su questo vorrei fare una riflessione di tipo critico che vi propongo questa innovazione che sempre più si allarga e che peraltro corrisponde anche a esigenze diciamo così mettiamo nella categoria del non spreco delle risorse in che direzione va? si tratta di trovare un punto di equilibrio fra il sapere l'esperienza agricola come storicamente si è maturata e un'innovazione il mezzo tecnico che in realtà la sta lasciando tutta la questione qui la voglio fare breve proprio perché i tempi sono quelli che sono il sapere agricolo si trasferisce nella acquisizione ed elaborazione di dati diciamo così che il sapere del contadino mi si passi questo termine diventa sempre meno importante come storicamente si è realizzato poiché l'acquisizione di dati di dati produttivi di dati di ogni genere e tipo consentono attraverso una rielaborazione un'attività che è di campagna o che è di allevamento che in qualche modo può prescindere da quella storia guardate che questo non è solo una questione diciamo così sociologica a mio parere mi permetto di dirla in questi termini anche va considerata come costitutiva anche di interessi nazionali esempio noi siamo la più grande paese in Europa per denominazioni di origine una delle cose che sta in testa alla definizione di una denominazione di origine parmigiano reggiano grana padano insomma chi più ne ha più ne merda è il mantenimento di usi costanti e leali cioè c'è un elemento di storicità che deve essere mantenuto e che consente a quel prodotto di caratterizzarsi come unico territorialmente riconosciuto il tipo di evoluzione che noi abbiamo tende a prescindere da questa caratteristica fondamentale l'apoteosi di quanto sto dicendo e finisco con questa prima parte poi la faccio breve con qualche dato è la vertical farming lì siamo in una condizione vertical farming si intende un capannone dentro il quale ci sono in un'atmosfera totalmente condizionata sotto tutti gli aspetti un substrato organico che consente di produrre dei vegetali si produce ormai è un dato di mercato tendenzialmente prodotti articoli lì non c'è bisogno di sapere contadino quella è una produzione di un vegetale dentro un'atmosfera che prescinde anche dalla terra dalla campagna e nello stesso tempo corrisponde anche a rigorose necessità o comunque di richieste di piena integrità di massima salubrità del prodotto poiché tutto è controllato dalla luce che viene immessa con variabilità alla prodotti nutrienti che questi vegetali hanno vertical farming significa che possiamo produrre fatto anche per questo sotto certi aspetti prodotti vegetali ad uso alimentare sulla luna e quindi quanto di più possibile sia distante da una storia di una professione agricola che per l'appunto invece ha fatto della sua connessione intima storicamente assolutamente verificabile di rapporto uomo e terra qualche dato per dire dove però ci troviamo in questa cosa nella costatazione di questa evoluzione in Italia ci sono un milione e passa di operai agricoli dipendenti sempre al 90% tempo determinato quindi stiamo parlando anche di una professione che occupa che si connette a una grande realtà occupazionale sono 183 mila le aziende agricole che occupano operai agricoli e molto spesso nella condizione della loro indeterminazione sono assunti quelli che operano in relazione all'allevamento l'uomo all'allevamento ha bisogno di esserci nell'allevamento ha bisogno di esserci quotidianamente una vacca va munta per l'appunto almeno due volte due volte al giorno e abbiamo e questo è un dato che mi sembra utile da riconoscere rispetto al ragionamento che abbiamo fatto prima il 34% di questi dipendenti sono oltre 50 anni ma ce n'è il 22,4% che hanno meno di 30 anni questo secondo me ci fa pensare che il segnale di un recupero nel lavoro agricolo anche di tipo dipendente da parte dei giovani esiste vado a concludere perché avevamo detto sette minuti e qui effettivamente bisogna casomai vi potranno essere successivi passaggi ora tutto quello che ho detto credo sia vero corrisponde in realtà in movimento però ci uso un verbo forse improprio ci salva una cosa ci sono alcuni lavori un dato ci sono alcuni lavori che non possono essere né meccanizzati e tantomeno hanno bisogno della persona dell'uomo faccio un esempio la potatura il lavoro di potatura non è fungibile il lavoro della raccolta per esempio del pomodoro il 90% è tutto quanto meccanizzato adesso rischiamo delle vicende di caporalato per la raccolta di taluni prodotti ma il 90% può essere raccolto a macchina ma ci sono dei lavori che non possono essere messi a macchina conclusione l'innovazione che significa poi agricoltura di precisione che significa quindi raccolta di dati molto puntuali e quali corrispondono le emissioni di mezzi tecnici altrettanto puntuali questo complesso di cose ho sentito anche parte della discussione che c'era nel modulo precedente può arrivare fino a un certo punto e le stime stiamo parlando di stime di carattere europeo diciamo propongono prevedono ovviamente in modo non certo ma certamente indicativo che circa il 25% dell'occupazione oggi verrà ad essere sostituita dalla innovazione che abbiamo prima abbiamo prima descritto da questo punto di vista quindi la presenza di un operatore di un imprenditore di un agricoltore di un operario agricolo comunque è prevedibile soprattutto nell'ambito di un'agricoltura tale come la nostra che sia comunque ripeto costante e o comunque di larga diffusione chiudo dicendo questo agricoltore questo operatore se vuole fare però agricoltura di precisione e se vuole essere il personaggio col camice bianco a fondo campagna che guida e che gestisce le famose sei macchine operatrici è comunque una persona che ha bisogno di una forte formazione la questione della formazione di nuovi operatori e della professionalità che questi devono avere anche riferimento alla domanda di sostenibilità che prima è stata ampiamente illustrata è a mio parere un problema o comunque è un terreno di lavoro per il mondo universitario in generale per il mondo della formazione verso il quale bisogna lavorare di un galena vi ringrazio grazie grazie davvero anche in questo primo intervento ci sono molti stimoli molte parole chiave da riprendere e prima di passare in qualche modo a sollecitare i nostri ospiti qui in sala vorrei aggiungere un tassello con Paola Sacco perché Carlo Basilio Bonizzi ha fatto riferimento al tema umano al lavoro che in qualche modo non può essere sostituito in molte attività in agricoltura al tema della formazione e anche al tema anagrafico con questo dato interessante degli under 30 che comunque fa riflettere su anche l'attrattività dell'agricoltura allora chiederei a Paola Sacco invece di aiutarci in qualche modo a così raccontare come la spinta gentile delle donne in agricoltura portino anche a pensare alla sostenibilità non soltanto nella dimensione ambientale ma anche in quella sociale che è un tassello altrettanto importante per raggiungere gli obiettivi della transizione e gli obiettivi di sostenibilità prego Paola grazie 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 per l'opportunità che ci date di partecipare le donne in agricoltura ci sono e non è una sorpresa credo per nessuno il fatto che anche in agricoltura adesso ci sia una buona percentuale di donne in Italia ce ne sono circa 233 mila per metà dipendenti e per metà indipendenti e ci sono sempre state adesso hanno più visibilità ma le donne in agricoltura ci sono sempre state nella tradizionale impresa familiare accanto al titolare di solito uomo ci sono i codivanti che una volta erano in prevalenza donne quello che è successo negli ultimi decenni del secolo scorso ormai è stato un progressivo aumento di donne che sono diventati titolari di aziende sono diventati titolari di aziende perché complici le varie crisi economiche che si sono succedute non hanno trovato lavoro in altri settori e quindi hanno fatto questo ritorno alle origini un ritorno alle origini nelle aziende che erano state abbandonate dai loro genitori o più ancora facilmente dai loro nonni perché erano aziende che erano considerate che erano effettivamente marginali e qui le donne si sono insediate e proprio grazie alla loro maggiore sensibilità nei confronti appunto dell'ambiente nei confronti dell'altro e in generale del territorio si sono inventati nuovi modi di fare agricoltura e si sono inventate quelle che oggi chiamiamo le attività col Ness che rendono l'agricoltura un settore multifunzionale quelle legate all'accoglienza l'agriturismo le fattorie didattiche gli agri asili e anche l'agricoltura sociale che è un aspetto veramente molto importante quelle legate al recupero di colture o di processi che erano stati abbandonati che sono state recuperate e valorizzate attraverso la trasformazione le vendite dirette di prodotti tutte queste attività però sono state non sono appunto da considerare come un ritorno al passato ma sono proprio la dimostrazione di come le donne hanno saputo guardare avanti e quindi rendere anche economicamente sostenibile fare agricoltura là dove non lo era prima tant'è che sono state abbandonate sono tantissimi gli esempi di quella che si chiama oggi agricoltura oica cioè fatta in aree impervie e difficilissime e che sono portati avanti da che è portata avanti da donne e quindi questo è tutto un settore che se lo guardiamo dal punto di vista del lavoro richiede professionalità diverse da quelle tradizionali a cui siamo abituati a pensare all'agricoltura in agricoltura e quindi il rapporto con gli altri il rapporto per esempio nell'agricoltura sociale con persone che soffrono di disagi è un rapporto che richiede una professionalità che richiede una preparazione particolare e non è solo questo l'aspetto in cui noi troviamo le donne perché anche nelle produzioni tradizionali la presenza femminile è molto importante nel percorso di sviluppo sostenibile dell'agrura l'agricoltura rispettosa dell'ambiente ad esempio che non va identificata con l'agricoltura biologica anche l'agricoltura biologica è rispettosa dell'ambiente ma sono diverse le forme di agricoltura che rispettano l'ambiente la vertical farming di cui ha parlato chi mi ha preceduto è sicuramente un esempio di queste e anche in queste nuove in queste forme di agricoltura appunto così sostenibili c'è una grande presenza femminile e appunto anche in queste forme di agricoltura e soprattutto queste forme di agricoltura non sono mai da vedere come un ritorno al passato ma sono sempre fatte di innovazione e appunto il problema grosso che abbiamo noi oggi io dico sempre abbiamo l'agricoltura 4.0 perché abbiamo avuto e abbiamo sostegni finanziari per attrazzarci in questo senso ha già detto prima Bonizi l'età media degli addetti all'agricoltura è ancora piuttosto alta e quindi non abbiamo gli agricoltori 4.0 su quelli siamo ancora un po' indietro e abbiamo bisogno di giovani un po' ci sono certo ne abbiamo bisogno ancora di più e soprattutto a questi giovani e soprattutto un modo di dire che si usava che si usa che si usa molto e che mi ha sempre fatto molto male e che è quello che quando un ragazzo non aveva voglia di studiare non ha voglia di studiare gli si dice vabbè al massimo vai a zappare la terra ecco diciamo che questo modo di dire oggi non può proprio più valere perché proprio per fare agricoltura bisogna proprio studiare bisogna proprio essere formati perché l'agricoltura sta andando per vincere le sfide che ha davanti sta andando proprio nella direzione dell'impiego di tanta tecnologia di tanta digitalizzazione e questo in questi campi c'è bisogno proprio di forze nuove di forze giovani e basta io direi che può andare così grazie grazie davvero per insomma aver anche portato una finestra su un mondo magari poco conosciuto e anche qui i dati aiutano a meglio comprendere le dimensioni dei fenomeni di cui parliamo abbiamo parlato di innovazione abbiamo parlato di tecnologia abbiamo parlato però anche di umanità e quindi anche la componente sociale del lavoro agricolo a questo punto però chiederei ad Alberto Ravel qual è lo stato di salute del lavoro agricolo oggi e in particolare in Piemonte legato al covid quindi dovrebbe essere disinfettato questo ma intanto grazie tu Sergio nella tua introduzione hai un po' fatto il quadro che è un quadro drammatico che stiamo vivendo in queste settimane chiaramente legato alla guerra è un quadro però che ci mette ancora più in evidenza quelle che sono le criticità anche da un punto di vista ambientale di questi ultimi decenni ci impegna a questo punto in modo ancora più urgente rispetto a quelle che sono le urgenze ormai ricordate in tutti gli appuntamenti non soltanto europei ma anche mondiali rispetto ai cambiamenti che noi dovremmo fare in questi in questi brevi periodi intanto noi dobbiamo pensare rispetto al mondo agricolo che dobbiamo immaginare anche rispetto a quello che ci spiegava prima la professoressa a una modifica delle coltivazioni una modifica delle produzioni ma anche una modifica e un cambio sostanziale rispetto a quelle che sono le abitudini anche alimentari è chiaro che la sostenibilità passa soprattutto con l'ambientale da questi passaggi la sostenibilità però passa chiaramente rispetto a una sostenibilità e una qualità del lavoro ecco se tu mi chiedi come la situazione attuale all'inizio richiamavi anche un po' un senso di ottimismo io ad oggi rispetto alla fotografia che noi abbiamo sul settore agricolo che è quella che ci è data dalla categoria che segue appunto i lavoratori dell'agroindustria è una situazione non ancora accettabile allora intanto sui numeri che venivano anche dati prima dalla della dottoressa Sacco ci sarebbero da fare degli ulteriori approfondimenti perché è evidente che c'è un numero di imprenditori e soprattutto imprenditrici agricoli anche giovani c'è però un numero di occupati nel mondo dell'agricoltura che è vero che in un quadro generale è giovane però noi immaginiamo tutti quelli che sono i lavoratori della raccolta ad esempio che veniva citata sono spesso i lavoratori tra l'altro con una provenienza straniera lavoratori che sono molto giovani quindi l'arco di età è tra i 20 e i 30 anni l'agricoltura però è un come dicevo un settore che ha delle condizioni che non sono accettabili per quello che stiamo anche discutendo in questa settimana però vorrei partire da una definizione proprio breve e sintetica rispetto a cos'è il lavoro in agricoltura intanto il lavoro in agricoltura è fatica quindi al di là di quello che possiamo immaginare rispetto a un lavoro con il camice bianco quello è un lavoro presente in agricoltura ma è ancora abbastanza marginale soprattutto in Italia il lavoro è fatica perché comunque c'è ancora una grande percentuale di lavoro manuale che non sarà sostituita da nessun tipo di macchinario il lavoro è precarietà il lavoro in agricoltura per definizione è un lavoro stagionale quindi spesso non si lavora per tutto l'anno e spesso non si lavora con lo stesso datore di lavoro purtroppo devo aggiungere l'ultimo punto spesso in agricoltura il lavoro è lavoro irregolare quindi la presenza di lavoro non regolarizzato in agricoltura è più presente che in altri settori quando va bene vengono segnate delle giornate perché così sono definite in agricoltura per diciamo così raggiungere il requisito necessario per avere la disoccupazione agricola e questo non è sicuramente accettabile in un mondo dove si vuole arrivare presto a un rapporto di qualità del lavoro che si sposa con la sostenibilità queste situazioni noi le viviamo e le troviamo nei filari dove si coltiva l'uva piuttosto che dove si raccoglie la frutta le viviamo nelle sale di mungitura veniva richiamata anche prima quello è un lavoro che per definizione non può essere invece stagionale perché comunque le mucche vanno munte almeno due volte al giorno su alcune razze ormai siamo arrivati già alla terza mungitura e non è ammissibile che questi lavoratori abbiano dei contratti di tipo a tempo determinato ci sarebbe da rappresentare quella che è una situazione molto precaria anche da questo punto di vista rispetto all'abitazione nel quale vive un lavoratore o una lavoratrice in agricoltura rispetto a quella che è l'accoglienza rispetto a quella che è la provenienza voi considerate che i lavoratori soprattutto per le campagne di raccolta provengono nel continente africano provengono con quella tratta che conosciamo ormai tutti anche in modo dettagliato arrivano in Italia attraverso l'attacco che è quello di Lampedusa arrivano in Italia per lavorare in agricoltura quindi sono commissionati in realtà dall'Europa per venire in Italia e in Europa a fare quello che gli italiani e gli europei è triste da dire ma non vogliono più fare ecco questi lavoratori che intrecciano le stagioni tra il nord Italia e il sud Italia non hanno una soluzione abitativa degna di questo nome in sud Italia ci sono dei campi famosi quelli di di Rosarno piuttosto che i ghetti del Foggiano ma in Piemonte ma anche in provincia di Torino ma soprattutto in provincia di Cuno non è che diamo delle dimostrazioni di avanzamento in questo senso è vero che costruiamo dei pass così denominati però alla fine siamo riusciti in questi anni a utilizzare delle caserme dismesse piuttosto che a creare dei grandi campi delle tendopoli ma questa non è sicuramente l'accoglienza degna di questo nome noi invece crediamo che l'accoglienza deve essere un'accoglienza diffusa fatta direttamente nelle aziende agricole che sia di fatto un elemento in più un elemento che deve diventare normale però in una vita in una vita nel volo guardate potremmo dire tante cose ma i sei minuti che poi diventano sette con la proroga sono pochi vorrei concentrarmi su un punto che non sempre viene diciamo così introdotto nelle nostre le nostre elettriciative c'è tutto un pezzo che è quello di preparazione alle sfide che noi avremmo anche da un punto di vista dell'approvvigionamento idrico ad esempio noi non facciamo abbastanza cura e manutenzione del territorio quello è anche lavoro agricolo quindi noi dobbiamo chiedere in questo caso alla regione Piemonte ma che poi in qualche modo ci sia anche un intervento più alto rispetto a questo tema perché è un tema fondamentale di prevenzione ma è un tema anche fondamentale in termini di risparmio tutto quello che noi riusciamo a fare sulla prevenzione e sulla manutenzione del territorio al di là di come poi costruiamo le condizioni anche di un utilizzo migliore del suolo sono sicuramente prevenzione ma sono anche risparmio risparmio economico nei confronti dei conti ed è anche occupazione di lavoro molto in termini occupazionali in agricoltura ma soprattutto sul versante della prevenzione è tutto un crescendo in realtà noi saremo anche da questo punto di vista obbligati a sostituire perché dovremmo in qualche modo compensare altri settori che per forza di causa maggiore mi viene da dire così avranno invece un calo di occupazione con questi settori che sono in realtà i settori più antichi ce lo insegnava anche il professore nel primo intervento ma che in un in un futuro diciamo così sostenibile dove la qualità del lavoro si concilia bene con il rapporto umano nei confronti dell'ambiente non possono non possono prescindere che da questo ecco quindi io ho solo una curiosità alla luce di quello che ci hai raccontato e che sicuramente mette sul piatto dei temi non solo importanti ma anche molto sensibili negli interventi precedenti è ritornato il concetto dell'importanza della formazione verso diciamo un nuovo modo di fare agricoltura dal lato del lavoratore è qualche cosa di sentito richiesto anche magari proprio nella relazione con il mondo sindacale oppure le sofferenze di cui ci hai parlato sono talmente diciamo forti che in qualche modo impediscono ancora limitano questa questa spinta a trovare anche nuovi strumenti nuovi attrezzi anche culturali tecnologici per in qualche modo agganciare quello che è la frontiera della nuova agricoltura sono curioso per capire se in questi consessi dove poi parliamo ovviamente di temi innovativi e guardando al futuro se poi però c'è un collegamento e una consapevolezza degli strumenti che in qualche modo possono aiutare questo processo di crescita diciamo che da un punto di vista occupazionale dobbiamo dividere in due questi settori anche se poi di fatto si ritrovano tutti e due nel settore agricolo intanto i piccoli imprenditori soprattutto quelli giovani soprattutto le imprenditrici giovani che in questi ultimi dieci anni si sono affacciati su questo settore rappresentano uno spaccato del mondo del lavoro che è spesso un minuto che spesso è legato all'imprenditrice piuttosto che al coadiuvante difficilmente queste aziende agricole se non in rari casi hanno molti dipendenti cosa diversa invece è nelle grandi aziende agricole che siano di frutta piuttosto che di allevamento dove invece da un punista occupazionale troviamo dei numeri più alti rispetto alla meccanizzazione quindi all'automatizzazione sulla parte delle mungiture lì molto si è fatto perché se pensate come si mungeva fino a 20 o 30 anni fa oggi il lavoratore indiano perché il 99% dei lavoratori che si trovano nelle sale di mungitura sono indiani in realtà accompagnano le vacche così vanno definite verso la sala di mungitura e poi si occupano assolutamente di pulizia per quanto riguarda invece la raccolta ci sono due aspetti uno è che su alcuni prodotti non potrebbe esserci una meccanizzazione perché se noi raccogliamo una mela con una macchina quella mela se è rovinata al supermercato non se la compra più nessuno dall'altra parte però e questo vale più per il sud Italia dove ci sono ad esempio i pomodori fin quando il lavoro costrà meno che comprare una macchina quell'imprenditore utilizzerà dieci braccianti agricoli piuttosto che prendersi una macchina quindi un raccoglitore di modi questi sono i due aspetti nonostante che in agricoltura ci sia la storia più antica e gloriosa rispetto alla contrattazione sia nazionale che territoriale perché in agricoltura i livelli di contrattazione sono il contratto nazionale e poi si fanno i contratti provinciali quindi diciamo che le regole non mancano è il problema che non sempre vengono applicate grazie allora a questo punto introdurrei una nuova parola che in qualche modo può essere importante che è quella territorio e territori e chiederei a questo punto a Michele Fontefrancesco nel suo lavoro di ricerca sulle filiere quindi filiere corte filiere marginali ci sono state delle importanti ricerche recentemente svolte proprio su questo tema ecco quanto contano e quanto possono essere un punto di forza i territori e quanto si fa per valorizzare i territori da questo punto di vista se si fa abbastanza c'è ancora spazio di crescita quanto è importante il territorio e quanto deve essere valorizzato ancora per raggiungere certi obiettivi grazie Sergio prima di tutto iniziamo dall'immaginario l'agricoltura è far vivere il territorio espanso che va oltre le muore della città questo è quello che è agricoltura e soprattutto lo fa vivere in una maniera importante perché fa vivere la città questa non è una nozione particolarmente nuova perché già così lo vediamo nelle fresche del buon governo a Siena e via discorrendo è un sentire profondo che ci fa capire come fondamentalmente quel centro pulsante di politiche e di vita e di innovazione che sono le città non vivono senza il contado il contado che è per sua natura meno abitato meno vissuto sempre una situazione di fatto di dialogo continuo tra l'essere umano con il suo sapere delle varie sue forme con le sue tecnologie e quello che sono le istanze di un mondo naturale visto come altro visto a volte come entità sovrannaturale come divinità o come mostro che è attenta al futuro questo è il nostro sostrato culturale e su questo dobbiamo iniziare a ragionare di che cos'è questo territorio noi parliamo di un'agricoltura che vive due facce nel quotidiano una faccia che è quella del mondo globale e globalizzato delle commodity del grano del mais che oggi il cui dibattito e le dinamiche economiche oggi riempiono le pagine dei quotidiani non solo e quelli economici questi sono prodotti senza volto senza nome in cui un chicco vale l'altro ma complessivamente fanno vivere i popoli dall'altra parte ci sono una serie di prodotti che noi chiamiamo con nome di cui conosciamo vita, morte e miracoli se vogliamo sono i nostri amici i nostri elementi fondamentali di identità questi sono i prodotti che oggi sostengono i territori soprattutto i territori di margine perché perché di fronte all'avanzata della frontiera verde del bosco che si sta rimangiando i territori più marginali abbandonati ormai da decenni delle nostre comunità perché perché attratti da migliore possibilità economiche migliore qualità di vita da aspettative e futuri più ricchi e prosperi oggi sono bosco boscaccio anzi ecco la domanda è questi prodotti che hanno un nome hanno ancora il nostro significato profondo e ci danno un'identità e danno un'identità per esempio al nostro made in italy che futuro ha economicamente hanno un buon futuro riescono sicuramente a entrare nelle case degli italiani come la pubblica ci ha insegnato a dire entrano a un valore più alto anche perché chi li produce però più piccole aziende ma quando parlo di piccole signori parliamo di mogge di giornate di terra non stiamo parlando di ettari l'ettari da signori e soprattutto sono ettari strappati al bosco con difficoltà perché stiamo parlando di territori collinari territori montani dove la terra non è così bassa ma la schiena fa sempre male qual è la situazione come università di scienza gastronomica siamo stati coinvolti in due ricerche una commissionata dall'associazione filiera futura dall'altra dalla fondazione cariplo per comprendere le fragilità di questo sistema e per farlo abbiamo sondato 40 filiere di prodotti d'eccellenza vogliamo chiamarli che possono andare dalle costagne sia del bellese che del savonese alla rosa di gorizia per finire ai prodotti dell'appennino più intenso meridionale o delle pendici dell'Etna e qual è lo spaccato che vediamo? vediamo che un'azienda su due fa fatica ma fa fatica non per motivi economici ma fa fatica perché inizia a scarseggiare di futuro e quando dico questo lo intendo di due forme di futuro da una parte sono tutte aziende come ho detto piccole scarsa capitalizzazione scarso impegno chiaramente di investimento tecnologico non per questo di innovazione di commercio per cui di fronte a quelle che è stata la grande proscella degli ultimi anni hanno faticato hanno faticato a far inserire prodotti insomma a costruire una solidità aziendale e l'hanno fatto per il più la solidità aziendale erodendo sugli esparmi che è stata una storia che ha accomunato molti italiani ma l'altro futuro quello ancora più grave che viene a mancare è quello della profondità prospettica l'età è alta la quotidianità dell'agricoltura in Italia purtroppo si sta legando a due categorie di persone che portano avanti il coltivare da una parte abbiamo pensionati pensionati che oggi vanno dai 60 anni a salire dove a salire si arriva a 90 oppure persone che trovano impegno in città e come secondo lavoro conducono all'azienda di famiglia conducendo un'azienda che è rimasta nei confini piccoli perché da una parte è difficile acquistare o allargarsi data la frammentazione fondiare che caratterizza tutto il territorio italiano asfalto salvo dell'Alto Adige dall'altra parte punto una piccola azienda anche perché un secondo lavoro deve dare un secondo reddito e dall'altra parte arrivare a un reddito pieno diventa difficile difficile anche perché stiamo di nuovo parlando di territori lontani e pensare di trasferirsi di vivere quotidianamente in territori che sono a un'ora un'ora e mezzo da un ospedale a tre quarti d'ora da una scuola diventa una sfida molto impegnativa per le famiglie quasi un salto della fede ecco che vediamo dunque una difficoltà una fragilità profonda che però ci risponde con elementi di importante riflessione importante sguardo positivo se era quello la chiave che è quello dell'innovazione innovazione commerciale soprattutto nella capacità di recuperare i rapporti umani col consumatore finale con gli altri soggetti della filiera soprattutto di quelle della trasformazione e della vendita in città è questa tenace costruzione di dialogo che caratterizza queste realtà diffuse nel nostro territorio quelle delle varie denominazioni ufficiali o commerciali ma che ci parlano di questi territori di questi territori che vogliono parlare in città vogliono ritornare al centro delle città ma con mille difficoltà guardiamo al futuro guardiamo in positivo dato che ci conosciamo nella vita sai benissimo che per me l'impresa che mi potevi chiedere qualsiasi altra roba ma questa è dura battute a parte parlare al positivo c'è ancora possibilità quando parliamo di un'agricoltura che non vuole semplicemente produrre massivamente ma vuole ritornare a prodotti che si armonizzano col territorio e con la storia culturale e naturale territorio sicuramente ci sono risposte importanti ci sono risposte che possono essere declinate in industria 4.0 sicuramente con la capacità di interpretare parte delle nuove tecnologie che vengono soprattutto da un legame forte sia con l'informatizzazione e la robotizzazione di parte della produzione d'altra parte c'è bisogno di un sostegno purtroppo la mano invisibile nel mercato in questo caso si è fatta un po' l'assa un po' porosa per cui a volte si cade in mezzo e a questo punto forse renderla più concreta ma non tanto scaraventando imprenditori a dover affrontare inventandosi metodi e soluzioni quando piuttosto con politica che non vanno a frammentare l'aiuto un po' qua un po' là spesso ingabbiando in una burocrazia che fa sì che riuscire a venirne fuori con quattro soldi dalla PAC diventa un alto di fede di carità alla fine bensì riguardando quelle che sono le esigenze le esigenze cosa sono ringiovanimento si è parlato di educazione e sicuramente l'educazione sia da un punto di vista agronomico ma anche lo vedo nella mia quotidianità quel corso di triennale che coordino in università proprio la conoscenza puntuale di tutta la filiera anche da un punto di vista commerciale per dare nuovi strumenti non solo per produrre ma anche per comunicare e far rendere questo prodotto ancora più parlante ancora più forte all'interno della vita di tutti noi ecco questi sono due elementi superare il problema della fermentazione fondiaria probabilmente rimaginando come si possa arrivare al contratto e quindi investimenti supportando quella che è un'esigenza un'esigenza che va non solo nel sogno di futuro di una nuova generazione ma soprattutto nella garanzia di una forte sovranità alimentare che abbiamo visto dal 2020 prima con la pandemia poi con la crisi del canale poi adesso con la guerra sta sempre diventando più vacillante e insicura grazie 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 Michele Michele ci ha posto all'attenzione la questione del rapporto tra campagna e città e allora Giacomo Pettenati ce la può ulteriormente sviluppare e Michele parlava anche di politiche no? l'esigenza di politiche ecco allora chiederei a Giacomo Pettenati di introdurre diciamo nel nostro nel nostro ragionamento il termine cibo e come il cibo può e forse deve essere parte integrante delle politiche urbane ecco perché il vostro lavoro di ricerca ci racconta anche proprio un ruolo attivo nelle politiche urbane sì grazie allora all'ultimo che parla di solito aspetta un compito di sintesi che non farò e si chiede anche mi sembra in questa tavola lo sforzo di ottimismo che almeno inizialmente non darò perché vorrei parlare di politiche urbane del cibo politiche locali del cibo come un'occasione al momento persa al momento almeno per quanto riguarda il lavoro visto che è un po' il tema di questa settimana e quindi anch'io appunto parlerò di agricoltura parlerò di campagna partendo dalla città come ha anticipato Michele e richiamando anche il concetto che Cristiana Peano ha evocato alla fine del suo intervento quello di sistema del cibo perché innanzitutto perché è evidente che l'evoluzione dei sistemi del cibo ha portato a un cambiamento delle condizioni di lavoro in alcuni casi in una direzione di miglioramento in altri in una direzione di peggioramento in tutte le fasi della filiera in tutti gli elementi del sistema del cibo pensiamo al tema attualissimo dei rider del delivery che è diventato dal lato del consumo diciamo una delle pratiche delle modalità di accesso al cibo più diffuse nel contesto urbano tanto c'è chi parla di piattaformizzazione dei sistemi del cibo ecco da 15-20 anni a questa parte l'attenzione nel dibattito sul cibo si è molto concentrata sul quasi detto sistema urbano del cibo quindi ci si è accorti che il sistema del cibo può essere letto e può essere anche gestito partendo dalla scala urbana intendendola ovviamente in senso ampio come centro o forse come polo neanche come centro di una realtà più ampia di una realtà territoriale più ampia ci si è accorti dell'esistenza del sistema urbano del cibo e si è sviluppata una agenda urbana del cibo quindi le città in realtà gli organismi di governo ai diversi livelli sono resi conto che la scala urbana poteva essere una scala a cui analizzare il sistema del cibo e provare a gestirlo questo fa parte in realtà di un percorso più ampio di un dibattito più ampio che riflette sul ruolo delle città nel indirizzare per esempio le politiche di sostenibilità su scala più ampia non solo per l'urbanocentrismo che caratterizza un po' la nostra società l'inglese lo chiamano citizen visto che quasi tutti noi che facciamo lavori di intelletto siamo basati in città tendiamo sbagliando a leggere il mondo dalla prospettiva delle città però è un dato che le città sono luoghi in cui si concentra la massa critica delle persone sono luoghi in cui si prendono gran parte delle decisioni sono luoghi da cui partono molte delle innovazioni non tutte e quindi come dire le città sono diventate attori delle politiche del cibo che sono partite dal contesto anglosassone in cui la questione del cibo in città aveva una natura leggermente diversa anzi decisamente diversa da quella delle nostre città italiane per esempio pensiamo ai food desert delle città americane agli ambienti che alcuni chiamano obesogenici cioè luoghi in cui è più facile mangiare hamburger e patatine che mangiare un insalato poi queste politiche sono diffuse con un processo di mobilità delle politiche come si chiama fino ad arrivare anche da noi e poi anche nel sud del mondo quindi prendendo caratteristiche diverse forme diverse e danno su obiettivi diversi in Italia noi stiamo tendendo a chiamarle anche se partono quasi sempre dalle città politiche locali del cibo non urbane proprio per dare maggiore rilievo al fatto che questo dispositivo politico diciamo che è un insieme di strategie un insieme di politiche strategiche che guardano a superare la divisione a superare la compartimentazione tra i tanti settori che si occupano di cibo nel governo territoriale politiche locali del cibo lascia intendere che non si tratti solo di città ma di territorio più ampio e l'idea è guardarlo a una scala localizzata in Italia è nata una rete ho portato il libro da far vedere una rete di politiche locali del cibo quindi attori istituzionali accademici della società civile del mondo dell'agricoltura e non solo che insieme provano a riflettere su quello che succede nelle diverse città in merito a questo scusate prendo appunti ci dicevi che però dal tuo punto di vista a livello di politica ci arrivo non ci siamo esattamente volevo solo leggervi l'inizio della cornice in cui si muove questo che è Milano Urban Food Policy Pact quindi un patto firmato a Milano dopo il 2015 quindi un'occasione di Expo e che riunisce oggi 200 città in tutto il mondo che si come dire si impegnano ufficialmente a lavorare per sviluppare sistemi alimentari sostenibili inclusivi resilienti sicuri e diversificati per garantire cibo sano accessibile a tutti in un quadro d'azione basato sui diritti e poi una serie di altri obiettivi allo scopo di ridurre gli scarti alimentari preservare la biodiversità adattarsi agli effetti di cambiamento climatico ecco a me ha sorpreso provando a preparare questo intervento il fatto che di lavoro non si parli quasi mai si parla sempre molto marginalmente parlando di diritti parlando di sistemi alimentari sostenibili inclusivi resilienti sicuri però tutto questo non può avvenire senza un sistema del lavoro che riguarda tutto il sistema del cibo alla scala urbana e non che tenga conto del lavoro come diritto del lavoro come pratica e anche guardando poi il modo in cui queste politiche vengono applicate in molte città ci si accorge di come il lavoro non entri mai a far parte delle azioni queste politiche si declinano in interventi di supporto all'agricoltura locale supporto attraverso organizzazioni di mercati dei contadini di farmer's market o il supporto alle reti agroalimentari alternative la lotta allo spreco beh però l'enfasi sul lavoro sul cibo locale non tiene mai conto del fatto che tutti questi obiettivi resilienza sicurezza non possono avvenire senza tenere conto del lavoro e quindi appunto l'idea che volevo imporre per chiudere questo intervento è proprio questa abbiamo un contenitore interessante anche a Torino si sta sviluppando adesso una food policy attraverso una serie di percorsi che partono dal 2014 dove Cristiana sorride dietro alla mascherina ma oggi c'è un progetto europeo un Horizon 2020 molto interessante si chiama Fusilli un bell'acronimo che però ha come obiettivo esattamente quello di provare a rendere il sistema del cibo di Torino più sostenibile anche attraverso le food policy quindi abbiamo dei contenitori abbiamo un dispositivo politico abbiamo delle reti di città in tutto il mondo che si impegnano in questa direzione ma al momento il lavoro è sotto traccia sarebbe interessante provare a lavorare anche insieme per farlo emergere farlo diventare uno degli assi d'azione di queste politiche beh devo dire che allora il tema scelto della settimana del lavoro è particolarmente azzeccato utile e direi anche necessario io non so quanto tempo abbiamo non abbiamo proprio più tempo vuol dire che comunque gli argomenti sono stati sviluppati al meglio io mi sono segnato un po' di concetti e di aree di sviluppo che sono sicuramente da approfondire veramente ognuno di voi ha dato veramente diverse chiavi di lettura al titolo della tavola rotonda a questo punto quindi vi ringrazio tutti e so che dopo di noi ci sarà un nuovo ulteriore elemento di dibattito e riflessione intanto grazie a tutti veramente del contributo grazie a tutti 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 Nel tema della transizione sostenibile del consumo alimentare, quindi ci poniamo nelle fasi successive della filiera e per farlo abbiamo degli interlocutori che a mio parere sono particolarmente interessanti sia perché occupano fasi della filiera differenti e sia per il ruolo che svolgono e il contenuto innovativo che mettono nello svolgerlo. Quindi abbiamo Enrico Nada che è capo servizio politiche sociali e relazioni esterne Nova Cop, quindi un importante operatore della fase della distribuzione. Prima nella filiera verrebbero Filippo Capurso e Mariangela Candido dell'Andriani Società Benefit che è un'industria alimentare con delle particolari caratteristiche di collocazione sul mercato. E' un genio sapora che chiude il ciclo andando addirittura non solo al piatto, alla forchetta ma cercando di evitare che succeda qualcosa di brutto dopo, contenendo gli sprechi alimentari e quindi occupandosi di recuperare quella materia alimentare che altrimenti rischierebbe di andare a sprecare attraverso l'iniziativa Too Good To Go di cui lui ha fondato e gestisce la, non so se chiamarla filiale italiana o se il termine è corretto. Faremo due giri di domande con dei tempi impostretti di risposta, circa 5 minuti per stare nei limiti che ci hanno segnato e come brevissima introduzione ricordo che ci muoviamo nell'ambito del concetto di sostenibilità che viene molto bene e notoriamente declinato da Agenda 2030 dell'ONU e in particolare dai suoi goals, i suoi obiettivi che sono particolarmente rivolti al nostro tema. Ce n'è uno specifico che il 12, consumo e produzione sostenibili ma anche altri che sono complementari dall'obiettivo 2, il contrasto alla fame, il 3, salute e benessere, il 8, il lavoro dignitoso, è stato molto richiamato questo argomento pochi minuti fa e il 13, la lotta al cambiamento climatico. Forse anche altri potrebbero essere agganciati ma non voglio farla tanto lunga. Quindi io inizierei a trattare l'argomento procedendo lungo le fasi della filiera, quindi io inviterei nella sequenza diciamo il dottor Capurso, poi Nada e Sapora, ai quali pongo una domanda simile a tutti e tre, mentre un'altra domanda me la tengo da parte successivamente per la dottoressa Candido per trattare in modo più specifico degli aspetti sociali e del lavoro. Quindi chiedo ai primi tre interlocutori, le vostre organizzazioni sono impegnate nel favorire la sostenibilità dei consumi alimentari? Quali iniziative, quali strumenti mettete in campo per affrontare questa sfida e quali risultati, ma anche quali difficoltà e ostacoli trovate in questo percorso? Quindi se appunto Filippo Capurso può iniziare, a lei la parola. Cinque minuti mi raccomando. Assolutamente, assolutamente. Buonasera a tutti, permettetemi di ringraziare l'organizzazione per questo momento di confronto, lo faccio a nome mio e a nome della realtà che ci rappresento insieme alla mia collega, la dottoressa Candido, che mi seguirà dopo nella rendicontazione. Beh, diciamo vuol dire che parlare di sostenibilità per noi di Andreanni ha da sempre avuto una grande importanza, lo riteniamo fondamentale, fondamentale perché siamo a conoscenza non solo di quella che è Agenda 2030 e i suoi 17 SDGs, ma soprattutto siamo consapevoli di quello che è lo stato attuale in cui ci troviamo e anche lo stato di avanzamento dei goals. Chi è Andriani? Andriani è una realtà pugliese che opera nel segmento, direi più che altro, dell'innovation food. Infatti il nostro prodotto è qualcosa di funzionale, di innovativo. Considerate che ha la forma della pasta, ma viene realizzato con materie prime naturalmente, privi di glutine, come cereali, come legumi e non solo. E operiamo appunto in una regione che è considerata da sempre la culla del grano duro, quindi anche rivedere questo paradigma è da sempre stata una sfida. Come operiamo quindi in tal senso? Beh, come attori della filiera agroalimentare siamo consapevoli del nostro impatto. Ci piace definirci agenti del cambiamento non tanto per autoincensarci, ma per sentire ancora di più la responsabilità che abbiamo verso i nostri stakeholder, mi viene da dire anche verso i nostri fornitori in particolare. Beh, il settore è quello che emette circa il 30% di gas climatteranti in atmosfera e sappiamo bene, magari ci torneremo anche dopo come il tema più importante sia assolutamente il riscaldamento globale collegato al cambiamento climatico. Noi dal 2020 siamo diventati società benefit. Che cosa significa? Significa assolutamente continuare a fare quello che qualsiasi azienda continua a fare, cioè perseguire l'utile. Semplicemente questo utile per noi diventa uno strumento attraverso il quale cerchiamo di raggiungere una prosperità diffusa individuando nel nostro statuto circa cinque aree di impatto su cui ci impegniamo poi annualmente a rendicontare i passi in avanti, gli stati di avvalzamento. Ve li cito velocemente, anche indicando per ognuno il macro tema, sicuramente l'attenzione alla filiera produttiva non può che essere un tema centrale. Da questo punto di vista evidenzio come proprio in accordo con le indicazioni di Agenda 2030. Abbiamo redatto anche un manifesto o codice di condotta, chiamiamolo più volgarmente, ma di fatto è un'intesa di quello che vogliamo fare, vogliamo fare evidentemente non da soli, ma insieme ai nostri fornitori. come? Creando ovviamente un dialogo, formandoci assieme, questo è un progetto di, è un percorso, meglio di co-evoluzione, proprio per raggiungere insieme risultati migliori con impatti assolutamente più positivi. Non potremmo fare tutto questo se non avessimo a cuore l'attenzione per i nostri consumatori, e questo è un tema che noi cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi, attraverso gli investimenti, la ricerca e sviluppo, attraverso l'interesse e l'attenzione alla sicurezza alimentare. Ovviamente tutto questo ha un impatto sul territorio in cui operiamo. Mi viene da dire in prima analisi la nostra regione, ma poi evidentemente noi abbiamo anche degli impatti globali, basti pensare che il nostro prodotto raggiunge circa 30 paesi nel mondo, quindi dobbiamo anche pensare a questo, oltre al tema filiere, che evidentemente non è definito solo in Italia, ma anche in altri paesi. Ovviamente il macro tema, quello che dicevamo all'inizio, da cui tutto parte, il cambiamento climatico, e noi abbiamo un percorso che utilizzando processi di economia circolare ci porterà ad ottenere dei risultati importanti, molto impattanti per cercare di arginare questo che è davvero il macro tema. Ultimo, ma ovviamente ultimo, solo nella mia descrizione, non per importanza, e evidentemente il formare un gruppo di lavoro in cui ci si senta assolutamente parte di una realtà importante, si crei un'identità di gruppo. Per fare tutto questo, evidentemente c'è bisogno di tempo, la sostenibilità è un percorso, e le difficoltà, ovviamente ce ne sono, ma appunto insieme con questa convinzione siamo convinti di riuscire a superarle. Ahimè, ahi noi, direi, purtroppo il tempo è tiranno, Agenda 2030 significa raggiungere questi obiettivi di qui a 2030, e otto anni sembrano tanti, in realtà sono pochi. molto conciso, insomma, mi colpisce il concetto dell'utile che non è più il solo fine dell'impresa, ma è uno strumento per creare benessere dentro e intorno all'azienda. Novacop è un colosso della distribuzione, e quindi proporzionalmente alle sue dimensioni ha anche un ruolo rilevante, quindi ecco lei ripropongo la stessa domanda sul ruolo, i risultati, le difficoltà dell'organizzazione Novacop. Perfetto, grazie, buongiorno a tutti, siamo effettivamente grossi, Novacop è la COP del Piemonte, che vuol dire 64 punti vendita, 600 mila soci, più di un miliardo di fatturato, vuol dire più di 40 mila prodotti diversi come tipologie di prodotti presenti oggi a scaffale in un normale e moderno ipermercato. Vuole anche dire che se io adesso dovessi parlare delle azioni che facciamo per la sostenibilità, farei un elenco lunghissimo in cui io parlo velocissimo, oppure vi tengo qui fino a stanotte, cosa che ovviamente non mi lasciate fare, quindi provo a accennare alcuni temi. Siamo un punto di snodo fondamentale, nel senso che comunque grande distribuzione che si accoppa a qualunque altro insegna è quel posto dove prevalentemente in Italia, in Europa, quello che è la filiera produttiva, quindi tutto il mondo dei nostri fornitori, incontra il mondo dei consumatori. E il nostro ruolo di essere leader di mercato ci consente di poter agire orientando, indirizzando, stimolando delle scelte di acquisto anche da parte dei consumatori, perché banalmente quando si decide dove mettere o non mettere un prodotto su uno scaffale, quello cambia la vendibilità che ha quel prodotto. Quindi se decidiamo di mettere un prodotto alto vendente che gli moda in quel momento o un prodotto a marchio particolarmente coerente con la nostra campagna legata alla sostenibilità, cambia l'impatto che possiamo avere sugli acquisti che poi tutti noi facciamo quando siamo lì col carrello. Siamo attenti ovviamente al tema della sostenibilità e fa parte della nostra storia, declinandolo nel corso del tempo con quello che era la comprensione del tema e con la sensibilità fin da quando esistiamo ed esistiamo da quasi 170 anni, quindi una storia abbastanza lunga perché nuova coppa in questo coppa ricorda che siamo una cooperativa, quindi la proprietà è rappresentata dai nostri soci che tante volte magari non sono così consapevoli di essere proprietà ma il mestiere nostro in particolare il mio è cercare di far sì che siano un pochino più consapevoli o agire come se fossero lì tutti i giorni che ci punzecchiano e i nostri soci non ci chiedono un certo livello di utile perché non c'è un ritorno del successo economico per i soci ma ci chiedono di fare quello che loro interesse e quindi nel 1854 diciamo bene di buona qualità a un giusto prezzo e in questa buona qualità è cresciuta sempre più nel tempo l'attenzione verso la sostenibilità tanto che usando l'esempio più evidente se vi capita di vedere una pubblicità della Coppia in questi ultimi due o tre anni alla televisione c'è un carrello che cambia il mondo magari è un po' iperbolica ma c'è questo carrellino che gira che ferma quelli che spargono fitofarmaci in campo porta da bere a chi lavora ricucisce i polis toglie le reti che hanno legato dei pesci e così via la pubblicità è un iperbole ma un po' racconta tutta una serie di azioni che andiamo a fare proprio per la sostenibilità dei prodotti che noi vendiamo in particolare per i prodotti a marchio Coppia nel senso che sul totale di questi 40.000 prodotti circa il 30% guardando le vendite quindi quello che poi esce in un carrello sono prodotti con il nostro marchio quindi fatti da fornitori esterni su capitolati concordati con noi in cui una serie di attenzione alla sostenibilità declinata su tutti i vari filoni degli obiettivi del 2030 vengono richieste e vengono praticate gli obiettivi del 2030 per noi sono un aspetto estremamente importante tanto che il nostro bilancio di sostenibilità è articolato sui 17 obiettivi come articolazione in capitolo per due motivi fondamentali il primo perché ci consente un confronto quindi di capire se quello che stiamo facendo com'è rispetto a quello che possono fare altre aziende simili in Italia ma anche i grandi leader di mercato e competitor stranieri sia perché ed è un problema molto mio come coppo come grande distribuzione ci porta un pochino più nella modernità come linguaggio perché quello che noi facciamo la parola storica bellissima è la mutualità però magari in questa sala più o meno qualcosa di tutti forse sappiamo cosa può essere la mutualità ma se usciamo nel corso fuori intervistiamo le persone quasi nessuno ha idea di cosa sia questo bellissimo termine che ha fatto la storia della cooperazione del mutuo soccorso e così via le iniziative che facciamo toccano essenzialmente vado veloce quattro categorie di interlocutori la prima è il lavoro con i fornitori quindi lavorare in particolare dicevo con i fornitori del prodotto col nostro marchio per avere un cammino comune di costante miglioramento si fanno ricapitolati insieme si fanno degli accordi si fanno delle ricerche si va a vedere cosa sta cercando il mondo universitario della ricerca scientifica si fanno dei contratti di lungo periodo si porta un valore aggiunto che poi ricade anche sui nostri competitor perché tante volte chi fa un prodotto a marchio cop lo fa anche per altre aziende mi è capitato in questi anni di vedere tante volte e comincia con noi e poi passa via via agli altri fornitori questo ogni tanto a me fa venire un po' di carogna perché dicono come noi ci abbiamo lavorato tanto poi loro arriva un'altra catena se lo prende però è anche il nostro ruolo di essere un pochino propulsori e di portare cose che prima avevano magari un po' di nicchia portarle poi invece dentro quello che è il mondo normale della grande distribuzione c'è un lavoro molto forte verso il mondo dei nostri clienti che è un lavoro come proponiamo i prodotti a scaffale è un lavoro di avere dei momenti informativi ed educativi rivolti ai nostri soci educativi per i più giovani informativi per tutti cercando di stare sulle modalità moderne di informazione quindi quello che oggi si chiama infotainment quindi un aspetto ludico perché quando uno viene a fare la spesa può essere disponibile a essere informato ma non possiamo quando ho iniziato 25 anni fa potremmo fare una conferenza sul riciclo degli imballaggi dove la gente che si fermava oggi se non ho una mostra in realtà aumentata un exhibit qualcosa un pochino più di moderno come linguaggio veramente difficile coinvolgere e fermare la gente iniziative che coinvolgono il personale siamo un'azienda grossa anche come persone che ci lavorano sono 5.000 dipendenti nuova copp 50.000 quelli di copp in tutta Italia e anche lì l'ingaggio è renderli partecipi del progetto e motivarli calcolando che chi arriva a lavorare in copp arriva perché risponde a un'inserzione perché magari è un'agenzia di lavoro interinale che ci lo manda a fare il cassiere e non è che automaticamente parta motivato ma farli capire che sono parte di un progetto e possono contribuire al progetto to go parlerà meglio di Medel prodotti ancora consumabili ma non più vendibili ma anche noi ne abbiamo nell'ultimo anno ne abbiamo dati in solidarietà quasi 7 milioni di euro se non hanno gli addetti che sono motivati questi prodotti finiscono nella spazzatura con un processo più veloce e poi con tutti gli stakeholder territoriali sia per fare attività anche qua di formazione informazione motivazione ma anche per quello che è la ricerca e capire i vari territori i bisogni e il livello di sensibilità che hanno chiudo parlando più che dei risultati delle difficoltà che ci sono mentre mi preparavo oggi ci sono secondo me tre temi ci sono a volte delle difficoltà legislative perché non sempre le buone pratiche che sarebbero belle sono romantiche da raccontare diventano fattibili a livello di legge parlando dei prodotti invenduti se io ho del riso che sta per scadere lo riesco a donare facilmente alle onlus del territorio se ho una pizza che sta per scadere un po' l'arrosto lo devo buttare via perché io il po' l'arrosto per la legge italiana deve essere se lo dono deve essere consumato entro la mezzanotte e i volontari vengono a prenderlo quando noi chiudiamo che sono le nove di sera e quindi non riusciamo più a farlo consumare poi nel frigo di casa nada quando io compro il po' l'arrosto se casomai i miei figli non lo finissero il giorno dopo lo si mangia ancora tranquillamente e i figli hanno superato i vent'anni quindi vuol dire che si può fare però la legge pone dei vincoli come sull'utilizzo delle plastiche riciclate a contatto di alimenti quindi una legislazione che non sempre facilita non è sempre facile coniugare sostenibilità e comportamenti d'acquisto intervistiamo le persone tutti dicono sì io sono disposto a comprare prodotti più sostenibili sono proprio disposto a spendere di più e così via ma poi questo si scontra col tema del denaro quindi del risparmio col tema della comodità perché se io vendo un detersivo alla spina vuol dire che qualcuno deve portarsi una bottiglia da casa per riempir e quando andiamo a fare la spesa sembra che farsi la lista della spesa sia una cosa complicata portarsi il sacchetto adesso la gente lo fa perché sennò io lo facciamo pagare ma portarsi le bottiglie è veramente una cosa catastrofica è un tema di immagine nel senso che sempre portarsi la bottiglia se uno va alla bottega leggera di via Napione che sono miei amici vado anch'io si porta la bottiglia si sente molto a posto quella coscienza e scusate il termine che non è la conferenza molto figo nel farlo è molto giusto ma se va invece in un grande ipermercato quello stesso comportamento non viene praticato con la stessa attenzione la terza difficoltà è creare consapevolezza perché i possibili comportamenti sono tanti non esiste l'azione commerciale che cambia il mondo della sostenibilità non esiste il comportamento d'acquisto giusto ma sono tantissime micro azioni e riuscire a passare questa informazione questa sensibilità richiede uno sforzo che noi con tutti i nostri limiti cerchiamo di fare a volte bene a volte meno bene ma richiede anche un'attenzione una propensione del consumatore che tante volte è travolto anche banalmente dalla vita dalle cose da fare quindi non sempre riusciamo a raggiungere questo obiettivo come primissimo commento a caldo sono due aspetti che emergono anche in comune con l'intervento precedente cioè la sostenibilità va costruita passo dopo passo lungo tutta la filiera quindi con un processo di coinvolgimento dei fornitori e nel vostro caso anche dei consumatori che potranno comprendere e accettare anche un cambio di abitudini nel momento in cui diventano via via più più consapevoli e a proposito di consapevolezza e di comportamenti di consumo eccoci all'avventura di Too Good To Go Eugenio Sapora che cerca e anzi mi piace la definizione è un c'è un termine che viene usato per definire il suo ruolo nel l'inglesismo sì country manager country manager ma anche food west warrior west warrior siamo tutti noi combattenti dello spreco cazzo c'è una bella bella responsabilità ad ossarsi questo epiteto allora noi cosa facciamo siamo una piccola azienda non abbiamo 160 anni ne abbiamo due e mezzo perlomeno in quanto riguarda la filiale italiana cinque per quanto riguarda la holding danese siamo un'azienda che si occupa di sviluppare questa app chi non ce l'ha ce la scarichi che si chiama Too Good To Go troppo buono per finire buttato quindi cosa facciamo mettiamo in relazione dei negozi che hanno invenduto a fine giornata con delle persone che vogliono recuperare questo invenduto a un terzo del prezzo di origine quindi immaginate un palettiere immaginate un supermercato un ristorante fine giornata arriva che ha ancora del cibo che domani non sarà più vendibile il pane può essere duro i tramezzini saranno mollici i cornetti saranno gnecchi e quindi giorno dopo non possono più essere venduti quindi ma in quel momento alle otto di sera quando si abbassa la saracinesca è ancora cibo perfettamente consumabile il cibo che fino al minuto prima era in vendita attraverso il canale tradizionale guarda che vuoi buttarlo però quello che stiamo facendo è creare questo progetto questo network che permette a tutti quanti di acquistare questo cibo a un terzo del prezzo quindi il negoziante di turno prende tutto questo cibo lo mette in un sacchetto che si chiama Magic Box è una Magic Box con 15 euro di cibo venduta a 5 euro all'utente finale quindi l'utente si fa un pasto diciamo a un prezzo molto conveniente il negoziante trasforma quello che era un rifiuto in una piccola entrata economica e soprattutto in un cliente che entra nel suo negozio e l'ambiente ci guadagna perché l'ambiente ci guadagna? perché lo spreco alimentare e questo è importante lo spreco alimentare è il CO2 che inviamo lassù in maniera gratuita coltivare CO2 trasportare CO2 imballaggi CO2 ritrasportare CO2 se facciamo tutto questo per usare altro CO2 per bruciare la roba che dobbiamo smaltire capite che è un controsenso unico quindi questo è un po' quello che cerchiamo di fare io l'onore di portare di condurre questo team siamo ormai un centinaio di persone in Italia che inizia a essere un progetto grandino che ogni giorno andiamo in giro per tutte le città d'Italia e a convincere i negozianti ad aderire al progetto a salvare il loro cibo siamo un team di appassionati siamo attivisti dal primo all'ultimo i nostri commerciali hanno studiato sostenibilità ambientale quindi non hanno studiato economia e commercio tanto per dirvene una cioè ci crediamo fino in fondo ed è una cosa bellissima sulla carta una ficata abbiamo 5 milioni di utenti in tre anni siamo stati all'app del food and beverage più scaricata dell'anno scorso eppure siamo ancora sconosciuti ai più siamo più scaricati di McDonald's di Delivery di Foodor di qualsiasi roba Just Eat siamo più scaricati di loro eppure dobbiamo ancora essere conosciuti delle grandi masse perché siamo un progetto sostanzialmente più recente difficoltà così sto nei 5 minuti come promesso ne abbiamo ne abbiamo tante anzitutto convincere i negozianti ad aderire non è mai facile ci sono due tipi di negozianti piccolini il panettiere dell'angolo che a volte è un po' diffidente dice wow ma sta roba qua funziona poi non è che l'immagine poi non è che mi trovo tutta la gente quindi è un po' diffidenza poi vendo un terzo del prezzo vabbè ma non ci guadagno niente non ci guadagno niente quindi guadagno prima dell'ambiente quindi convince le persone a fare sto step anche solo per aiutare l'ambiente non è così banale quindi ti trasmetto io che te frega non ci guadagno niente nel frattempo fai bene l'ambiente non ti costa niente e quindi quello che tu vedi come non ti costa nulla lui lo vede come un po' una sbatta non ci guadagno granché poi ci sono i grossi gruppi i grossi gruppi la Gidione è un esempio mamma mia che lunghezza tre livelli decisionali bisogna convincere tutti poi tutti sono interessati perché è bello però prima di partire con loro ci vuole ci vuole tanto dialogo ce la si fa poi ci sono delle figure come Enrico che fanno la sostenibilità il loro cavallo di battaglia lo portano avanti fino al fondo quindi ci si riesce poi ma ci vuole tempo questo lato supply lato utenti tendenzialmente dobbiamo ancora vincere un po' in Italia questa vergogna nell'andare a recuperare il cibo invenduto vergogna che c'è soprattutto nelle generazioni sopra i millennials adesso uso il termine boomers mi farò vinciare però diciamo che le generazioni giovani le generazioni z in primis ma anche i millennials ormai hanno trasformato l'andare a prendere un invenduto dall'essere una vergogna a farsi un selfie per la box to go e ce ne sono troppo figo perché risparmio faccio bene all'ambiente è una figata e quindi si sta cambiando questa roba ci vuole tempo ci vuole nuove generazioni che sfilano i venerdì Friday for Future ci vuole questa andata ma sta arrivando e quindi siamo molto molto ottimisti concludo con un bel numero l'impatto di Tuguttuvo oggi in Italia in Italia oggi salviamo una box ogni 5 secondi da Palermo a Trento quindi in questo dialogo che abbiamo fatto ho tenuto il tempo ho fatto anche 4 minuti ho trovato un minuto per gli altri interlocutori esatto abbiamo fatto 30 mg ma siamo fatti 30 mg box è di un onore portare questo ancora una piccola sottodomanda io sul vostro sito ho visto dei numeri sul spreco alimentare impressionanti ce ne ricordo un paio giusto per dire l'entità e l'importanza di affrontare questo argomento sono disastrosi innanzitutto ricordiamo Nazioni Unite c'è questo dato che più di un terzo del cibo prodotto al mondo finisce come spreco alimentare un terzo è l'enormità immaginate voi andate al supermercato tre sacchetti la spesa uno finisce come spreco alimentare tanto per darvi un'immagine in Italia rapportato a Dio Denaro lo spreco alimentare rappresenta 500 euro al secondo quindi diciamo che è un bel impatto negativo per il nostro PIL grazie questo ha servito a dare dimensione al problema non è un tema di nicchia ma è un tema cruciale per la sostenibilità e sempre nell'ambito degli sforzi per la sostenibilità anche legandoci a quanto è stato detto nel seminario precedente ecco la domanda per Mariangela Candido sempre di Andriani aspetti sociali lavoro dignitoso inclusione quali sono i nodi da affrontare per essere sostenibili sotto questo profilo e che cosa fa la vostra organizzazione in questo senso? Buonasera a tutti sicuramente noi oggi stiamo parlando appunto di sostenibilità di responsabilità sociale e di creazione di valore sul territorio ma la prima creazione di valore e la prima responsabilità è proprio all'interno delle nostre organizzazioni quindi verso i nostri collaboratori e le nostre collaboratrici questo significa andare a valorizzarli significa rispettarli significa promuovere la dignità di ciascuno perché ogni lavoratore non è soltanto un ruolo una posizione organizzativa un insieme di dimensioni ma è appunto un essere umano quindi con un insieme di caratteristiche personali un insieme di esperienze di conoscenze di competenze ma anche di attività cognitive di bisogni di emozioni quindi valorizzare i nostri collaboratori significa proprio andare a creare e a sviluppare un equilibrio proprio tra tutte le varie dimensioni che compongono ciascuno di noi ma anche tra la vita personale e la vita lavorativa beh questa è una grande responsabilità per le organizzazioni perché quando si parla di benessere significa considerare appunto il lavoratore in senso olistico significa appunto promuovere una sorta di felicità ecco possiamo utilizzare questo termine per associarla proprio al benessere inteso in senso psicofisico quindi nel senso più ampio del termine e le nostre organizzazioni possono lavorare in tal senso creando una serie di iniziative finalizzate a tale grande obiettivo noi ad esempio in Andriani come attività proprio di people care quindi parliamo proprio di cura delle persone che è un termine che mi piace molto e che in questo momento diventa veramente molto di valore e abbiamo fatto appunto e portiamo avanti costantemente una serie di attività per la promozione del benessere psicofisico ad esempio già da qualche anno abbiamo attivato un progetto si chiama Bike to Work per cui abbiamo dato a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta ad oggi 100 delle bici a pedalata assistita da utilizzare per il tragitto casa lavoro ma anche per il tempo libero e ne incentiviamo l'utilizzo con un premio mensile in busta paga sulla base della quantità di chilometri effettuati e questo è un modo innanzitutto per rispettare l'ambiente perché andiamo a ridurre le emissioni di CO2 non utilizzando la macchina ma è un bene innanzitutto ovviamente per chi la utilizza perché migliora il tono muscolare e si viene al lavoro anche più energici ma anche con una migliore autostina con maggiore entusiasmo questo perché vengono rilasciate le endorfine e le nostre droghe endogene e l'adrenalina sulla scia appunto di questo progetto ne abbiamo poi attivato un altro già da diverso tempo che è un progetto più di wellness cioè abbiamo creato una palestra aziendale che non è la classica palestra con i pesi all'interno ma un luogo in cui è possibile svolgere attività motorie mirate quindi costruite ad hoc per ciascuno sulla base dei propri dati biometrici del proprio stile di vita dell'attività lavorativa che si svolge e si può essere seguiti da un preparatore atletico e da un nutrizionista proprio perché è possibile così migliorare il proprio stato di benessere fisico ma quindi anche in psicologico quindi in senso un po' un po' globale sempre con l'obiettivo di creare benessere abbiamo realizzato uno smart building che è un po' la nostra palazzina uffici secondo le logiche dell'activity based working quindi spazi diversi a seconda del tipo di attività che bisogna andare a svolgere quindi attività più collaborative in cui è importante creare delle relazioni quindi abbiamo anche dei tavoli rotondi proprio per la collaborazione perché sviluppare le relazioni in senso positivo è uno degli elementi più importanti per generare benessere questo ce lo insegna anche la psicologia positiva e quindi dobbiamo anche noi organizzazioni cercare di creare degli ambienti che in qualche modo vadano a migliorare questo aspetto abbiamo creato anche delle aree interne con del green perché il verde è uno degli elementi innanzitutto più presenti come colore proprio in natura ma ha degli effetti benefici sui nostri ritmi biologici ma anche sul raggiungimento di un senso di serenità di equilibrio e abbiamo anche creato delle aree esterne sempre sviluppando i principi della psicologia del colore per sviluppare invece il pensiero creativo con l'utilizzo dell'arancione esempio in un thinking pad in un agrumeto biologico ecco potrei star qui a raccontarvene tante di queste iniziative però sono in realtà giusto degli esempi per comprendere come noi organizzazioni abbiamo un grande e da questo punto di vista appunto impegno da dover mettere in campo verso tutti coloro che lavorano con noi anche a fine appunto di inclusione di inclusione di tutte le nostre diversità e anche su questa scena insomma stiamo portando avanti una serie di progetti per esempio per il supporto alla genitorialità oppure per cercare di scardinare eventuali stereotipi di genere e prevenire fenomeni di discriminazione di genere che a volte a me possono portare anche a conseguenze negative ecco questi sono degli esempi di impegno quindi responsabilità sociale e innanzitutto all'interno appunto delle nostre aziende spero di essere stata un po' nei 5 minuti mi piace questa idea se posso semplificare quello che lei ha detto del posto di lavoro che da luogo di fatica spesso un po' di patimento come tradizionalmente viene visto è un luogo dove si può creare benessere e l'azienda che pensa non solo a se stessa ma da un contributo diciamo al miglioramento del benessere del territorio in cui opera abbiamo completato il primo giro ho pensato ad un secondo giro di domande che prende spunto dall'attualità e sappiamo tutti quello che sta accadendo terribilmente tragico vicino a casa nostra questa guerra russa e ucraina sta mettendo rischio oltre che alla vita di milioni di persone e la stabilità politica dell'Europa anche importanti catene di fornitura di materie prime e di conseguenza ha rimesso al centro dell'attenzione il concetto di sicurezza alimentare concedetemi un inglesismo food security perché la sicurezza alimentare ha due declinazioni la certezza di avere il cibo e poi la salubrità dello stesso adesso noi stiamo parlando non solo della salubrità che è parte della sostenibilità che abbiamo trattato finora ma anche quello dell'approvvigionamento su questo concetto si è fondata l'Unione Europea e la politica agricola comune dell'Unione Europea che assorbe ancora oggi un terzo abbondante del budget comunitario man mano questo concetto è un po' venuto meno perché con la globalizzazione ci siamo abituati ad avere delle catene di fornitura molto lunghe spostando a volte il danno ambientale da casa nostra a casa degli altri facendo finta di essere puliti il nostro sistema agroalimentare italiano e piemontese è molto legato a questo tipo di forniture soprattutto la fase di allevamento e dipendiamo da come per l'energia come da altre materie prime critiche da paesi politicamente difficili scorretti poco affidabili e quindi adesso ci troviamo a dover affrontare in maniera decisa un problema che era latente ma che doveva già essere nell'agenda dei decisori la domanda che io rivolgo ancora in modo diciamo collettivo ai nostri intervenuti la crisi in atto può mettere in discussione la scala della priorità e rallentare il percorso verso la sostenibilità alimentare tracciato da Agenda 2030 e da voi diciamo perseguito nelle vostre organizzazioni o viceversa ci sprona ad accelerare la velocità di questo passaggio nella risposta io invertirei il ciclo e partirei dalla termine della filiera e quindi rivolgo la domanda a Eugenio Sapora domandone questo allora do la risposta per quel che riguarda il nostro business e penso che per tutto quello che riguardi lo spreco alimentare tendenzialmente tutta questa situazione internazionale rafforzerà la lotta allo spreco alimentare è chiaro che io sono abbastanza ambientalista avete capito seguo l'attualità e il pericolo centrale carbone e robe lì non è più un pericolo è una realtà che accadrà adesso quindi sicuramente stiamo facendo degli step indietro altrettanto sicuramente è emersa una consapevolezza enorme la consapevolezza di trattare meglio le nostre risorse energetiche e alimentari proprio per il fatto che queste due materie materie prime che sia diciamo la parte di oil and gas la parte di elettricità che ne deriva la parte di cibo frumento mais che prezzi che si stanno le stelle emerge questa tendenza molto chiara il fatto che wow tutto costa di più tutto costa di più lì tocchiamo la tasca degli italiani quando tocchiamo la tasca degli italiani si tende al risparmio se nel risparmio vuol dire si tende in questo caso anche a risparmiare la materia e quindi c'è chi abbassa il termostato dai 19 20 19 ai 18 chi spegne il riscaldamento a marzo aprile sicuramente c'è molta più attenzione anche all'ambito waste col cibo che costa di più col prezzo della pasta che aumenta beh è chiaro che bisogna fare più attenzione ai rifiuti e quindi lasciami dire per me nel mio piccolo la domanda è molto ampia e dare una risposta mi sembra di prendere una responsabilità che va molto al di là del mio ruolo però per quanto riguarda il waste quanto meno ci si può immaginare si può sperare in un passetto significativo quindi non è accelerata anche gli obiettivi degli SDGs per me è un'occasione più unica che rara si dice molto spesso e questa è una cosa che si dice fateci caso si dice sempre però per cambiare le cose bisogna cambiare le abitudini delle persone perfetto abbiamo un'occasione per cambiare le abitudini delle persone perché in questo momento le persone sono un po' più attente al portafoglio e quindi ai loro modi di consumo sfruttiamo questa roba qui a me piacerebbe vedere leggi che vanno più in questo senso in questo momento più che chiaramente l'appoggio dello Stato che ti toglie le accise sulla benzina andiamo dal benzinaio e rivediamo la benza a 1,7 fa piacere a tutti quanti però è anche un incentivo ancora di più è una divulgazione di buone pratiche su come risparmiare energia su cosa fare contro lo spreco alimentare su come riutilizzare i cibi quello aiuterebbe secondo me altrettanto quindi può essere veramente un buono spunto è un'occasione da sfruttare per avanzare ancora rapidamente verso gli SDGs la domanda non è facile è una delle prime volte che mi capita in anni e anni che vado a convegni di solito mi fanno una domanda e io tac la so perché farlo di coppia il mio mestiere ci vorrebbe la sfera di cristallo a dire la verità se no faccio la voce la comizia adesso sì allora ricomincio di solito mi capita di andare a parlare a convegni dove mi fanno domande e la risposta la so perché racconto pezzi della mia esperienza lavorativa con una certa certezza dato dal fatto di avere copp dietro che vuol dire una grossa elaborazione anche di pensiero e ragionamento oggi è una delle volte in cui è più sfidante perché non ho la risposta assoluta sicura per arrivare qui e ragionare su questo tema ho fatto un po' di interviste volanti telefonate a colleghi amici in varie situazioni diverse ho cercato di mettere insieme alcuni spunti ci sono degli spunti di sicuro di preoccupazione per quello che sarà la sostenibilità in questa situazione questa situazione che è quella che è una di quelle tempeste perfette che uno dice ma da qua come ci usciamo il potere di acquisto è compresso aumentano i prezzi c'è la difficoltà all'approvvigilamento dei prodotti alcune difficoltà sono reali altre probabilmente sono anche enfatizzate ci sono fornitori che dicono ma invece che mettermi a lavorare mi approfitto faccio cassa integrazione ma probabilmente con la scusa che non ho la materia prima ma che non ci sia proprio già di più la materia prima dopo un mese di guerra mi sembra una roba abbastanza improbabile però questo di sicuro è una giustificazione che viene usata ci sono le varie notizie che uno legge sullo spostamento di tutti i mercati per quanto riguarda l'energia le materie prime le commodities l'India che fa i contratti con la Russia la Cina da un'altra parte il Venezia da un'altra ancora quindi è comunque una situazione confusa e in continua evoluzione la comunicazione è fortemente incentrata sul momento di crisi e questo se penso ai clienti che entrano nel nostro negozio causa una distorsione dei comportamenti che poi cresce in continuazione perché c'è chi entra e cerca di accappararsi qualunque cosa possibile immaginabile quello che viene dopo che era entrato per prendere due ettili prosciutto però vede che la gente prima ha comprato di tutto si lo prendeva dall'ansia e ancora di più enfatizza questo problema anche nella comunicazione la crisi prende il sopravvento su qualunque altro tema guardo il mio orticello di copp la parte di iniziative sociali nel mio programma annuale a marzo avevamo delle bellissime iniziative sull'otto marzo sulla parità di genere sul congedo parentale maschile per fare un congedo parentale maschile più lungo e non i papà che tornano a lavorare appena possono le mamme restano a casa avevamo tutte delle bellissime iniziative sul ventun marzo per la giornata della legalità ma tutto questo è stato fagocitato dal fatto che facendo le iniziative legate alle raccolte fondi per sostenere progetti di pace in Ucraina domani c'è lo show però per il clima che è un'iniziativa estremamente importante anche nella mia bolla social che tutte le persone mega attente alla sostenibilità tutte formate sensibili e così via sembra che mentre le volte prima quello era il tema adesso sembra che non ci sia anche perché poi c'è una crisi che arriva attaccandosi a un'altra crisi che era quella del covid quindi ci sono delle preoccupazioni c'è dell'ottimismo banalmente io guardo il mio giardinetto dicevo prima COP ha nella sua natura fare la sostenibilità parlando di sostenibilità in maniera adeguata in base a quello che sono i tempi dicevo prima noi ci siamo da 170 anni quindi ci siamo stati e abbiamo continuato a fare quello che è la COP in momenti di crisi anche molto più forti di questo perché dal 1854 a oggi ce ne sono state di guerre austerity e qualunque altra cosa ci venga in mente ma non abbiamo smesso questo approccio gli obiettivi 2030 ci insegnano che la sostenibilità è un cammino non è una sticella che se non salti abbastanza alto non ci sei ma è un continuo progredire per arrivare a raggiungere dei numeri e superarsi di volta in volta proprio questa è una delle cose belle di questi obiettivi quindi è un cammino in cui magari alcuni aspetti stanno rallentando altri pensando all'accesso al cibo alle fasce più deboli in questo momento diventano particolarmente più evidenti e la sostenibilità mi viene da dire è sempre di più non la nicchia cioè non è il consumatore ricco che compra il farro di antica varietà ma è un pezzo che ho tutto il rispetto per chi compra il farro ma è un anch'io lo compro ma è un è un tema che tocca tutti i nostri comportamenti di consumo e se guardo quello che noi stiamo facendo come cop con il nostro prodotto non è assolutamente in discussione in questo momento penso che sia uno stimolo e uno stimolo mi è capitato proprio cercando di fare due ricerche guardavo l'ultimo pacchetto di misure dell'Unione Europea esce la notizia ieri dalle agenzie di stampa e accelerare a livello globale della transizione del sistema alimentare verso la sostenibilità e la resilienza per prepararci meglio alle crisi future anche perché se in due anni abbiamo avuto due crisi così non oso pensare quante ne avremo negli anni prossimi di crisi che non riusciamo nemmeno a immaginare però al di là dell'ironia vuol dire che sostenibilità e resilienza entrano e lo avevano già ma entrano in maniera forte in documenti dell'Unione Europea che focalizzano molto sul questo ultimo documento sui raccolti fatti in maniera sostenibile quindi tutte quelle pratiche agricole che facilitano la sostenibilità riducono il consumo e in particolare focalizza sul ridurre nell'agricoltura la dipendenza dell'energia allora se questa situazione di crisi che sarebbe meglio non ci fosse spinge a livello non solo a livello di consumi personali vince la preoccupazione del domani sto spendendo un botto nella bolletta dell'energia quindi risparmio sul cibo come approccio ma se nel medio breve periodo muove verso una maggiore attenzione a livello di decisori politici come sembra che ci sia secondo me è sempre meglio evitarla però in quel momento in cui ho una visione abbastanza ottimistica cioè non è un'interruzione di questo cammino è da riaggiustare rimodulare ma non è un cammino che si ferma grazie passerei adesso la domanda al dottor Candido Capurso oh sì Capurso sì mi scusi mi vedo indifferita a cui ripropongo la stessa questione e voi come industria alimentare ecco come vedete come reagite a questa situazione io non mi soffrarrò alla domanda assolutamente qui ci atterro e raccontiamo quello che facciamo però permettetemi di inquadrare il problema ancora una volta per una scala di priorità quindi a livello globale l'altro giorno non io ma il segretario generale delle Nazioni Unite ha espresso grande preoccupazione rispetto al concetto della crisi energetica perché questa facilmente può accelerare ahimè è già quello che è in atto cioè ci può avvicinare sempre più alla catastrofe climatica cosa cosa voglio dire a causa di questo di questo conflitto tantissimi paesi stanno pensando di ritornare all'utilizzo di fonti fossili quindi di riaprire banalmente centrarie a carbone il risultato sarebbe quello di allontanare ancora tantissimo quello che l'IPCC vuole raggiungere dobbiamo raggiungere meglio cioè il limite non superare il limite del grado e mezzo dell'innalzamento della temperatura media del globo signori stiamo parlando di fronteggiare la prima onda che ci viene avanti e non ci rendiamo conto che invece dalle retrovie sta montando qualcosa di ancora più gigantesco quindi le priorità devono essere assolutamente sempre quelle su cui si parla forse in maniera anche senza trovare grandi soluzioni da anni detto questo per il nostro per il nostro caso studio ma ancora una volta riscaldamento globale che cosa significa significa desertificazione significa non avere più a disposizione quei terreni su cui si coltiva significa migrazione banalmente perché le persone che vivevano in un certo territorio e che non possono più utilizzarlo per approvvigionarsi di quelle materie prime che vengono coltivate si spostano capite bene come parliamo sempre dello stesso tema ma ancora una volta andandoci andandoci per le retrovie detto questo però in particolare sul tema delle nostre filiere e anche sul tema energetico beh è ovvio che una riflessione va fatta fortunatamente il nostro percorso per realizzare delle filiere sostenibili è ancora qui sempre in atto quindi tutto questo ha un impatto maggiore di quello che aveva ieri e minore di quello che avrà domani mi viene da sperare e sono confidente da questo punto di vista quindi in buona sostanza noi cerchiamo ovviamente anche se i volumi sono maggiori e non soltanto il territorio italiano basta soddisfare quello di cui abbiamo bisogno però ecco ci si sta lavorando da tempo su questo su questo tema altro altro settore impattante su questo è la crisi energetica come dicevamo che sta velocizzando quello che direi in maniera miope le organizzazioni la burocrazia in parte non non ha attivato da subito lasciando poi alle aziende ai privati davvero il ruolo di pionieri noi abbiamo una grande ricchezza se vogliamo nel settore agroalimentare sono i nostri sottoprodotti qualcuno li chiama materie prime di seconda generazione altri in maniera più veloce scarti beh quelli sono risorse sono risorse perché ci possono permettere di velocizzare il percorso che ci può far diventare autonomi dal punto di vista energetico parlo sia di energia elettrica sia di gas evidentemente peccato che questo percorso fino ad ora è stato anche un po' attenuato ripeto da scelte discutibili che non valorizzavano ad esempio ecco la realizzazione di un combustibile assolutamente green a partire da un processo di digestione anaerobica ad esempio dei sottoprodotti bene vediamo come invece questo ahimè drammatico evento che stiamo vivendo ulteriore stia almeno nei confini nazionali velocizzando questo passaggio per permetterci ecco di di essere pronti da questo punto di vista ma io non voglio fare la cassandra di turno ma davvero il tempo il tempo si sta esaurendo e vanno prese decisioni urgenti che coinvolgono tutti la globalità ecco grazie è stato un intervento particolarmente intenso e lucido a me colpisce molto che questi eventi gravi sembra ci stiano facendo riavvolgere il nastro e tornare in una situazione novecentesca con paure guerra ritorno all'energia sporca tutto nel giro di tempo brevissimo mentre lei ci ricorda che al di là della paura dello shock bisogna avere degli obiettivi chiari e che l'economia circolare non è soltanto come dire un accessorio un'aspettativa per completare la sostenibilità ma in realtà è una scelta strategica che serve a mettere in sicurezza per il futuro il nostro sistema economico e sempre parlando appunto di difficoltà negli ultimi anni come persone come consumatori anche secondo del berretto che abbiamo in testa nei vari momenti della giornata e siamo stati sottoposti a una serie di shock molto intensi e anche nuovi per lo meno per gran parte delle persone delle nostre generazioni quindi siamo entrati in una pandemia globale e prima ancora che questa si sia risolta adesso ci troviamo in una crisi politica ancora peggiore chiedo alla dottoressa Candido come può incidere tutto questo stress emotivo sul comportamento dei consumatori come percepite anche come operatori economici questo fenomeno sicuramente gli anni che stiamo vivendo non sono anni semplici da un punto di vista proprio di impatto emotivo su ciascuno di noi questi ultimi già proprio due anni con la pandemia ci siamo trovati ad affrontare una situazione di di emergenza diciamo mai vissuta negli ultimi negli ultimi decenni che è stata assolutamente imprevedibile qualcuno ha parlato di cigno nero evento molto grave e appunto imprevisto quindi difficile da affrontare abbiamo un pochino tutti quanti dovuto crearci o sviluppare quella che si dice si chiama resilienza anzi si è parlato ancora di più di antifragilità la capacità di trarre il meglio da situazioni così tanto di vasta portata con un impatto così grave così importante su tutti quanti oggi ci troviamo davanti a un'altra situazione di grande emergenza e molto imprevista che si è sviluppata tra l'altro almeno agli occhi di tutti quanti noi in tempi relativamente brevi e quindi ci ha fatto avvertire ancora di più questo senso di volatilità di incertezza oggi si parla molto di mondo ovuca quindi volatile incerto complesso ambiguo quindi ricco di tutti questi eventi che si avvicendano anche molto velocemente beh sicuramente tutto questo ha un impatto molto grande sul nostro assetto emotivo e in quanto esseri umani ci troviamo ad affrontare qualcosa di cui non siamo a conoscenza sentiamo magari di non avere neanche gli strumenti per affrontare un qualcosa che genera ansia cos'è diciamo la reazione di ansia è un insieme appunto di reazioni cognitive comportamentali emotive a un qualcosa che nel futuro vediamo come rischioso e quindi noi sentiamo questa guerra magari anche vicina la percepiamo come vicina beh sicuramente come organizzazioni possiamo fare qualcosa per cercare di gestire questo impatto emotivo sicuramente innanzitutto all'interno delle organizzazioni e poi in maniera a cascata su tutti gli altri stakeholders e quindi poi alla fine sul consumatore finale perché le emozioni sono parte rilevante di ciascuno di noi e quindi è importante averne cura già all'interno delle nostre organizzazioni ad esempio dando un supporto psicologico a chi lavora con noi quindi badare al benessere mentale che è fondamentale perché poi ha un impatto su tutti gli ambiti della nostra vita ad esempio noi all'interno della nostra azienda abbiamo attivato già da diverso tempo un supporto psicologico attivo 24 ore su 24 7 giorni su 7 a cui chiunque vuole può accedere per affrontare sia problematiche lavorative ma anche problematiche personali relazionali familiari perché poi questi eventi in qualche modo possono essere traslati anche nella vita familiare per come noi li viviamo e quindi avere un supporto di questo tipo ci aiuta anche ad avere un equilibrio a raggiungere un equilibrio perché noi poi siamo massi comunicanti non siamo formati da compartimenti stanni ogni aspetto comunica con l'altro quindi è importante badare al fatto che appunto raggiungano un equilibrio tutte queste dimensioni fare magari delle attività di gestione dello stress dei percorsi che aiutino le persone a comprendere quali sono i fattori stressogeni e come cercare di affrontarli al meglio per evitare che possano avere poi conseguenze non felici insomma che ripeto possono guardare sia la vita personale ma anche professionale perché è tutto strettamente interrelato oggi si dice che tra le competenze trasversali che è importante andare a sviluppare che svilupperemo sempre più c'è l'intelligenza emotiva perché l'intelligenza emotiva perché vuol dire sviluppare la capacità di riconoscere già dentro di noi le emozioni che proviamo e poi riconoscere degli altri e in qualche modo cercare di gestirle e affrontarle al meglio ecco quindi all'interno delle organizzazioni possiamo fare molto per sviluppare e attivare dei percorsi che aiutino a migliorare questo aspetto e questo sicuramente poi impatterà anche su tutti gli altri stakeholders con cui entriamo quotidianamente in contatto in relazione e con questa risposta appunto ci ha dato la possibilità di toccare un argomento che mi sembra importante anche nelle piccole conclusioni che possiamo provare a tirare viviamo appunto in una società ansiogena e in un periodo in cui i fatti esterni che accadono sembrano studiati a tavolino per creare aumentare questa ansietà poi siamo continuamente immersi in un flusso mediatico che non fa altro che amplificare tutto questo confonderci le idee e quindi l'aspetto psicologico diventa centrale per sostenere la resilienza per sostenere il cambiamento piuttosto per avere paura e ricorrere a comportamenti di fuga o di ritorno al passato che invece non sono altro che controproducenti ed equivalgono a tirarci la zappa sui piedi sostanzialmente qualche considerazione conclusiva dopo questi interventi che devo dire sono stati tutti molto chiari concisi e hanno facilitato molto il mio ruolo di moderatore innanzitutto abbiamo delle opportunità per affrontare la sfida della sostenibilità che qualche anno fa non avevamo pensiamo alla pandemia senza lo sviluppo delle tecnologie digitali non avremmo potuto lavorare da casa e mandare avanti gran parte delle attività come siamo riusciti soprattutto diciamo nei comparti dove la componente immateriale del lavoro è comunque rilevante vent'anni fa sarebbe stato del tutto impensabile oggi la tecnologia e il digitale ci danno la possibilità di ottimizzare i processi di ridurre e di monitorare molto il consumo delle risorse dei prodotti dannosi per l'ambiente ci danno la possibilità di mettere in relazione persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di comunicare tra di loro e creare una rete che combatte lo spreco perché to go non è un'app non è una cosa che fai tap sul telefonino è una rete di persone e di operatori che sono in grado di comunicare tra di loro sulla base di un'esigenza condivisa questo lo vedo come un aspetto diciamo di ottimismo e di speranza la tecnologia digitale marcia per sua stessa natura velocemente e delle transizioni che stiamo affrontando è quella che più spontaneamente procede e in qualche modo riesce a dare beneficio anche alla transizione diciamo ecologico energetica e spero anche a quella demografico sociale che non abbiamo toccato molto ma che nel nostro paese è comunque molto rilevante per creare sostenibilità e favorire la transizione della sostenibilità nel consumo alimentare forse è banale dirlo ma bisogna come avete detto e come fate voi tutti i giorni lavorare su tutti gli anelli della catena e creare tra questi diciamo un comportamento condiviso armonico che è basato su consapevolezza su competenze oltre che anche sull'adozione di modelli di relazione che evidentemente non includono più solamente l'aspetto costo prezzo profitto ma anche dimensioni più ampie di natura etica se vogliamo tutto questo dipende moltissimo anche dal comportamento finale dei consumatori consumatori che abbiamo visto da un lato sono stimolati stressati spaventati allettati anche magari da offerte commerciali che accentuano l'aspetto del risparmio immediato e chiaramente il consumatore è l'attore finale l'attore più importante e quindi aumentare la conoscenza la consapevolezza è fondamentale pensiamo alle scuole ma anche una responsabilità in questo chiunque sia una persona in grado di esercitare un'influenza sull'opinione pubblica a proposito della crisi in atto vediamo che al di là di necessari aggiustamenti diciamo tattici temporanei per attutire l'urto l'opinione condivisa è che sia necessario mantenere la barra dritta sugli obiettivi di transizione sostenibile se possibile di accelerarla perché è l'unica strada per poter aumentare anche quel livello di autosufficienza e di efficienza che ci possa mettere maggiormente il sicuro dei rischi immediati e di medio periodo diciamo relativamente alle disponibilità delle risorse ma soprattutto in prospettiva di non ricadere nel rischio di vedere la prima onda e non vedere quella molto più grande come ha detto il dottor Capurso che è quella degli effetti del cambiamento climatico che a quanto pari stiamo passando di crisi in crisi e probabilmente è già in atto in maniera strisciante ma ci sta aspettando alle porte temo in forme più importanti ricordiamoci che Torino non piove dall'8 dicembre del 2021 tanto per dirne una e sono dati ormai statisticamente rilevanti queste anomalie climatiche nella distribuzione delle piogge così come i picchi di calore e quindi il cambiamento climatico è da noi e ci sta cambiando la vita in ultima prospettiva io la butto lì credo che tutti questi sforzi pian piano stiano cambiando il comportamento dei consumatori il pattern del consumo come agronomo come diciamo studioso dei meccanismi delle politiche agroalimentari mi sto convincendo comunque che nel lungo periodo è solo possibile una soluzione un profondo cambiamento degli stili di consumo alimentare per non alimentare scusate il gioco di parole filiere che a loro volta dipendono eccessivamente da consumi energetici da forniture di materie prime che comunque non saremo mai in grado di produrre interamente a casa nostra e che quindi non sono sostenibili è una mia personale convinzione quindi dovremmo mangiare probabilmente meno proteine animali e coltivare di più le nostre terre per noi e non per nutrire milioni e milioni di animali difficili da gestire abbiamo alle porte un rischio uno shock sanitario gravissimo alla peste suina che da momento all'altro potrebbe creare un ennesimo problema estremamente difficile da gestire quindi dobbiamo cercare di tenere insieme un sistema alimentare che deve transitare verso una intensività più bassa e solo in questo modo avremo benessere salute e daremo un contributo a contenere il cambiamento climatico e gestirne gli effetti se ritenete di chiudere ancora con qualche frase benissimo vi ringrazio moltissimo spero che chi assistito sia rimasto soddisfatto grazie di questa occasione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti